E' un'iniziativa questa che nasce da un'idea dell'On. Luciano Violante e di Italia Decide di promuovere o di federare iniziative di formazione politica in giro per l'Italia a partire dalla constatazione di quanto oggi sia sempre più necessario ripartire dalla conoscenza, dall'approfondimento e dall'incontro di esperienze differenti per riprendere a costruire consapevolezza nelle persone, coscienza dello scopo dell'azione civile e sociale e in qualche modo anche stima per l'impegno politico. E da questa idea, da questa iniziativa, sono nate le scuole di politica appunto Conoscere per Decidere che partono quest'anno in dieci città Avellino, Bologna, Brescia, Catania, La Mezzia Terme, Padova, Roma, Torino, Trento e Treviso e appunto questa di Milano. Proveremo alla fine di questa esperienza a realizzare, a promuovere un incontro tra tutti quelli che hanno partecipato in giro per l'Italia a queste scuole per cercare anche di costruire un po' di cultura comune di conoscenza e fare della politica. Cosa siamo venuti qui a fare noi questa mattina quindi? Cos'è questa prima lezione, questi incontri, come intendiamo lavorare? Siamo qui a, il titolo dice appunto, conoscere, conoscere per decidere. Conoscere non è tanto un ascoltare diverse opinioni per vedere se sono più o meno corrispondenti ad uno schema di valori precostituito che abbiamo in testa. Ma dal nostro punto di vista, per come abbiamo voluto impostare questo lavoro, conoscere significa innanzitutto immedesimarsi nel pensiero e nelle posizioni e nelle esperienze di chi le esprime. Quindi quello che noi cerchiamo di fare oggi e durante le lezioni che ci vedranno protagonisti è quella di conoscere e incontrare delle esperienze, dei pensieri, e immedesimandoci in quelli per cercare innanzitutto di capire da dove nascono, come si sviluppano, per conoscere delle esperienze, cosa le hanno originate. E innanzitutto quindi la conoscenza è un'immedesimazione nel pensiero e nella persona di chi abbiamo di fronte. In altri termini, conoscere in questo senso significa incontrare, è un incontro di un'esperienza in atto, un'esperienza di pensiero, un'esperienza di vita. E dal lavoro di questa immedesimazione può nascere per confronto una coscienza e di conseguenza una capacità di decisione. Da un punto di vista di metodo non siamo qui a fare dibattiti, ecco, ci sarà tempo anche per quelli, per carità, sono un po' il sale della politica, ma quello che noi vogliamo fare in questo percorso è questo lavoro, questo lavoro di immedesimazione, di conoscenza, eccetera. Avete in mano il programma, credo che vi sia stato dato, su cui ci sono alcune novità. Una è un incidente di percorso, nel senso che il professor Mauro Magatti ci ha comunicato ieri che è stato colpito da un ascesso febbrile e quindi non poteva essere qui oggi, non importa. è una cosa che abbiamo un po' messo in conto e che possa succedere. Altre modifiche del programma le trovate riportate nel programma che vi è stato dato, ovviamente per cercare di, come dire, di mantenere comunque il percorso che era stato comunicato e presentato lo scorso 28 gennaio. Siccome è una scuola abbiamo anche pensato di distribuire una scheda di valutazione che avete ricevuto, anonima, e che sostanzialmente vuole essere un tentativo di chiedere un feedback a voi che vi partecipate per avere un'indicazione su come migliorare la proposta che andiamo a fare durante questo percorso e auspicabilmente durante quelli che seguiranno e che proporremo nei prossimi mesi e negli anni prossimi. Questo lo dico perché l'intenzione è che questa sia un inizio di un percorso che prosegue, idealmente per tanto tempo, e che prosegue con le persone che l'hanno promosso o con altre che si vorranno coinvolgere nell'organizzazione, nella proposta o nell'approfondimento e nella richiesta di nuove iniziative che abbiano questo come fil rouge, filo comune. Oggi quindi lavoreremo così, avremo un primo panel che è quello che adesso fra poco vi presenterò e che ci introdurrà al primo tema con cui abbiamo pensato di partire nella organizzazione e nella presentazione di questa scuola e che è il concetto, che è anche un po' il titolo a questa giornata, di bene comune. Perché abbiamo pensato di partire da questo? Questo concetto, questo tema viene spesso usato come premessa di programmi elettorali, di comizi, di iniziative politiche, si dice facciamo la politica per il bene comune. A onore del vero è anche una formula che oggi sembra un po' logora, che spesso viene sostituita nel dibattito politico contemporaneo con il bene dei cittadini, il bene degli italiani, il bene del popolo. Ecco, abbiamo pensato di fare questa prima introduzione, questa prima giornata di approfondimento su questo concetto. E per cercare di mettere qualche paletto mi sono permesso di trascrivermi, adesso vi leggerò, il modo con cui ho imparato la prima volta in cui mi sono come dire, imbattuto in questo concetto, leggendovi quella che è la definizione che dà la Gaudium Espes nel Catechismo della Chiesa Cattolica, di bene comune. E dice che il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. E il Catechismo della Chiesa Cattolica declina tre elementi che, come dire, cercano di dire cosa vuol dire questo insieme di condizioni di vita sociale. Cioè da che cosa si deve partire? Il primo è il rispetto della persona in quanto tale. In nome del bene comune, cito, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana. La società ha il dovere di permettere a ciascuno dei suoi membri di realizzare la propria vocazione. In particolare, il bene comune consiste nella condizione ed esercizio delle libertà naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione umana. Quindi il primo punto è il rispetto della persona. Il secondo è che il bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo, della società. Lo sviluppo come sintesi di tutti i doveri sociali. Cito ancora, aspetta l'autorità a farsi arbitra il nome del bene comune fra i diversi interessi particolari. Essa però deve rendere accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana. Vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura, informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, eccetera. E il terzo punto, dopo il rispetto della persona, il benessere sociale, lo sviluppo della società, è una condizione, diremmo così, che è implicata dal concetto di bene comune, che è la pace, la stabilità e la sicurezza di un ordine giusto. Si suppone quindi, cito di nuovo, che l'autorità garantisca con mezzi onesti la sicurezza della società e quella dei suoi membri. Esso fonda il diritto alla legittima difesa personale e collettiva. Da questa breve citazione ci rendiamo conto, ovviamente ho preso questa definizione, potevamo prenderne altre, anzi, magari i relatori di oggi ci ne proporranno altre, di come il concetto di bene comune descritto dal Catechismo della Chiesa Cattolica sia un concetto estremamente laico ed estremamente attuale, che implica anche elementi che sono presenti nel dibattito politico contemporaneo e anche nelle scelte politiche che sono oggi all'attenzione, diciamo, del nostro Paese. Sinteticamente da questi spunti traiamo due conseguenze specifiche che ci aiutano un po' a entrare nei lavori di questa mattina. Primo, che il bene comune appunto ha a che fare con la persona, la sua dignità, il suo desiderio, la possibilità di una sua realizzazione, ultimamente la sua libertà e che tale possibilità di realizzazione passa attraverso l'essere in relazione con altri, con altre persone, con la famiglia, con la società, eccetera. Per questo il titolo di questa prima lezione affianca al termine bene comune quello di educazione da una parte e di etica pubblica dall'altra. Perché sono due elementi che sono implicati dal concetto di bene comune stesso. Iniziamo questa giornata partendo dagli ospiti che vi presento brevemente. Alla mia sinistra la professoressa Lorenza Violini, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, esperta in tema di diritti, di federalismo, di regionalismo e di diritti fondamentali, membro del Consiglio Direttivo della rivista Le Regioni e che introdurrà la nostra, come dire, mattinata con un intervento appunto che partirà dalle domande che abbiamo un po' posto come sottotitolo di questo argomento per poi approfondire il tema dell'educazione. Alla mia destra, li cito in ordine con cui poi interverranno, Anna Finocchiaro, una lunga carriera politica, possiamo dire, già Ministro dei Rapporti con il Parlamento del Governo Gentiloni, magistrato nella sua vita professionale, è in Parlamento, è stata eletta in Parlamento per la prima volta nel 1987 col Partito Comunista Italiano, poi è stata Ministro delle Pari Opportunità col Governo Prodi, potrei saltare qualcosa, mi perdoneva? No, salta. È sempre stata rieletta alla Camera fino al 2006 e poi al Senato dove è stata capogruppo del Partito Democratico e nell'ultima legislatura Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato dove ha guidato la discussione che ha portato all'approvazione della riforma costituzionale e poi bocciato dal referendum. Nel 2018 non si è più candidata e oggi appunto ci offre un po' quando le abbiamo chiesto cosa dobbiamo mettere le hanno detto signora Anna Finocchiaro, basta così. Alla mia sinistra Anna Scavuzzo vice sindaco di Milano, insegnante, laureata in fisica, insegnante di fisica, ha insegnato a Milano, insegna tuttora, anzi insomma insegna quando quando la sua carriera politica glielo permette. Cresciuta nell'ambiente degli scout, della GESCI, ha dedicato al servizio educativo una parte importante del suo impegno nel volontariato in Italia e all'estero e appunto è alla sua seconda consigliatura e ricopre il ruolo di assessore alla sicurezza e vice sindaco di Milano. Lascio la parola quindi a Lorenza Violini rileggendo le domande che ci siamo fatti diciamo così per iniziare questa discussione. quali fattori sono essenziali nella definizione del bene comune quale lavoro è indispensabile per realizzarlo dal livello personale a quello istituzionale ci sono delle premesse culturali che possono favorire la realizzazione di un bene comune e aggiungo io quale ruolo ha lo Stato l'autorità nel garantire nella realizzare questo bene comune. La parola a Lorenza. Grazie. Grazie a Luca De Simoni grazie all'invito di aprire insomma anche un po' un invito un attico costretto quasi un po' spinto dalle circostanze ad aprire questa questa lezione insomma effettivamente io non sono una sociologa quindi parlare del bene comune in sostituzione di Magatti fa un po' tremare le vene ai polsi ma cercherò di assolvere con con buon umore con libertà e con un po' di ironia questo questo compito l'introduzione che è stata fatta già ci dà degli elementi importantissimi il primo vorrei che sottolineo è che la definizione di bene comune della Chiesa Cattolica nella sua complessità ha un elemento che ha come un riverbero diretto nella dimensione costituzionale quando si è parlato di pieno sviluppo della vocazione umana tutti conosciamo per quel che conosciamo la nostra costituzione e anche lì si parla di pieno sviluppo della persona nella sua dimensione sociale come veniva ricordato quindi se posso introdurre questo mio intervento attestando quello che Luca De Simoni ha detto cioè che per parlare di bene comune ne possono parlare tutti ma proprio perché è un principio è un concetto che ha una sua laicità e per laicità ancora una volta lo definiamo non pensiamo a un concetto o un valore che definisce una parte o uno schieramento rispetto a un altro schieramento ma è una delle tante parole che se letta con attenzione definisce quella base di dialogo e di incontro che costruisce effettivamente una società una società civile che può essere aperta e capace di costruire il bene comune ora dovendo parlare di bene comune a Milano oggi credo che un testo da cui è necessario partire bene comune ed educazione è il discorso che Monsignor Delpini ha fatto in occasione del suo discorso alla città nella festa di Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio che se vogliamo come dire avere un esempio di cosa vuol dire un impegno nel bene comune a partire da una posizione rigorosamente laica è sicuramente uno dei nostri punti di riferimento e lo posso dire offrendolo come strumento di riflessione a chiunque viva e agisca dentro questa città scusate solo per sapere 20 minuti ci siamo dati facciamo circa tre interventi da 20 minuti e poi lasciamo spazio a domande dal pubblico per approfondimento e richiesta di migliore comprensione mi regolo perché effettivamente i due temi congiunti hanno una certa grazie bene allora dicevano si può che partire da questo discorso e dagli elementi che l'hanno contraddistinto che io riassumo ovviamente brevemente ma che invito tutti a guardare perché a leggere a considerare perché effettivamente ha declina nel concreto di una situazione concreta di una città specifica qual è Milano questa definizione iniziale da cui siamo partiti lo declina secondo una concretezza una capacità di leggere il dato sociale che è interessante credo discutibile ampliabile ma da conoscere quali sono gli elementi che vengono identificati in questo in questo testo come caratterizzanti il momento sociale il clima sociale la 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 psicologia il sentire sociale sono essenzialmente tre dice Mario Delpini le pretese indiscutibili e fa l'esempio anche di nuovo molto concreto di chi va a uno sportello di un ente pubblico a chiedere ecco spesso ci possiamo un'esperienza che forse possiamo fare tutti ci troviamo di fronte a una incapacità di dialogo cioè due parti uno che chiede e uno che è lì per dare che non riescono a trovare il modo giusto per uno a dare con competenza e l'altro a ricevere anche con quel po' di gratitudine che spesso la riduzione dello stato sociale a pretesa ci ha fatto dimenticare quindi lui dice c'è questo nel rapporto tra la società le persone l'istituzione c'è questo mismatch cioè quello che giuridicamente dovrebbe essere quasi la perfezione della relazione il diritto ad avere la prestazione e il dovere di prestarla finisce per essere letto e per essere vissuto in modo disarmonico e credo che questo sia un elemento su cui possiamo riflettere secondo giudizio che viene dato rispetto al modo di vivere il bene comune è un giudizio sulla ricerca del consenso come talvolta chi governa e poiché deve governare e quindi governa in una società democratica basandosi sul consenso ricerca il consenso non puntando primariamente su una ragionevolezza ma puntando primariamente su sentimenti e su emotività e poi l'altro elemento che rende difficile una vita nella società anche della nostra città è la questione dell'eccesso di legislazione che ha un aspetto contenutistico troppe leggi che spesso si contraddicono l'una con l'altra e che rendono difficile quindi l'ordinato svolgimento della vita sociale favorendo la conflittualità ma anche la dimensione procedurale questo credo che sia vero e che lo si può riscontrare soprattutto se si vive nel mondo del lavoro nel mondo del pubblico dove spesso c'è questa questione allora se questa è la condizione cosa vuol dire ricercare il bene comune o comunque avere a cuore avere come una domanda perché ecco questo credo che metodologicamente sia molto importante noi sulla scorta di quello che veniva detto introduttivamente non credo che vogliamo essere insieme per una definizione per definire per avere risposte precostituite perché questo sarebbe in palese contrasto con una dei valori di fondo che ci stiamo richiamando e che è il valore della libertà e quindi noi non siamo di fronte a un tentativo quasi di ingabbiare questo concetto con esperienze o definizioni già date ma di aprire questo concetto all'esperienza allo studio alla conoscenza e all'esperienza ecco la riflessione che viene fatta che è una riflessione di metodo perché la ricerca del bene comune chiede prima di tutto un metodo è quella della ragionevolezza della ragione della razio l'invito è ricordarci che siamo autorizzati a pensare che è un'espressione molto sottile ma diretta della libertà essere consapevoli che non siamo prigionieri di queste dinamiche come invece il contesto sociale tenderebbe a dire contrasto diritti doveri emotività nella ricerca del consenso e invece poi anche difficoltà di organizzazione nella giungla del diritto ecco ma c'è un fattore che può come dire entrare in questa problematicità e tentare di incontrarlo e di cercare soluzioni che è quello che è il tema della ragionevolezza io credo che sia molto importante richiamarcelo proprio perché invece spesso la tendenza è questa della dell'istintività della reazione della reazione della reazione dura della reazione violenta quindi ricordarci che siamo autorizzati a pensare e a produrre un pensiero quindi non un pensare come dire facile perché tutti pensiamo c'è un passaggio importante pensiamo ma bisogna poi che questo pensiero si 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 formi e che sia che produca un lavoro che produca un pensiero un pensiero che per la nostra città è sempre stato fondamentale ma anche per il paese possiamo dire perché è stata una città che ha prodotto ha prodotto non solo beni non solo servizi non solo istituzioni molto guardate basta dire dove siamo ma ha prodotto un pensiero anche un pensiero politico molto molto importante il pensiero politico che si è prodotto a Milano è stato un pensiero che è stato importante per il paese e probabilmente anche per l'Europa e quindi la ricerca del bene comune come produzione di un pensiero e un pensiero che non può essere ovviamente confinato alle istituzioni a ciò deputate ma che deve essere un pensiero condiviso un pensiero ampio un pensiero che è frutto di un lavoro e questo pensiero oggi è un pensiero che ha di fronte credo sempre ma oggi forse in modo particolare ha di fronte una grande complessità e quindi la dinamica la produzione del pensiero deve come aver presente che non ci sono risposte precostituite ma siamo di fronte a una serie di questioni molto aperte che richiedono molta riflessione e che richiedono anche una grande capacità di ascolto e di dialogo reciproco un pensiero che è da un lato molto attento ormai inevitabilmente attento alla dimensione quantitativa fare dei progetti funzionali al bene comune deve avere una base conoscitiva quantitativa molto solida ma che ovviamente non può non può fermarsi perché deve invece aprirsi alla visione a una vision una vision capace di guardare al futuro che non non si resti confinati nel pensiero scientista nel pensiero quantitativo ma il pensiero quantitativo è sicuramente un elemento che ci aiuta che ci aiuta ad aprirci alla progettazione perché la produzione del pensiero e anche del pensiero politico funzionale alla creazione del bene comune è fondamentale e uno degli elementi che oggi ci dovranno sollecitare molto è la questione del rapporto tra il nostro paese e l'Europa questo Delpini lo accenna quasi con una certa leggerezza semplicità ma evidentemente nel contesto in cui lo cita ci dà lo spunto per capire che uno degli elementi di riflessione a cui dobbiamo aprirci è proprio il tema dell'Europa e mi permetto di fare una piccolissima considerazione che verrà poi approfondita in questi mesi sono certa nel contesto della campagna elettorale oggi siamo di fronte a una soglia cruciale nel passaggio il passaggio politico che abbiamo di fronte è cruciale perché per la prima volta le elezioni al Parlamento europeo sono elezioni effettivamente europee mi permetto di dare questo giudizio su cui possiamo discutere e perché lo dico perché il risultato elettorale che nei mesi passati è sempre stato un risultato nelle legislature passate è sempre stato un risultato che aveva delle ripercussioni sostanzialmente interne ai paesi europei oggi invece diventa un fattore di influenza e di determinazione del pensiero politico istituzionale europeo perché se cambieranno le maggioranze del Parlamento questo vorrà dire alcune cose molto importanti dal punto di vista del pensiero europeo pensiero delle istituzioni europee perché non dimentichiamoci che poi il Parlamento europeo sarà chiamato a dare l'assenso alla Commissione e la Commissione è il motore immobile come si suol dire delle istituzioni europee e oltre al tema dell'Europa qui entro in un terreno che è un pochino più casa mia viene evocato spesso il tema costituzionale proprio nell'analisi di cosa vuol dire visione e ragione per il bene o comune viene evocato spesso il tema viene evocato per ben due volte il tema costituzionale e viene evocato secondo due come dire due flessioni da un lato il metodo costituzionale perché la produzione costituzionale il prodotto costituzionale che noi abbiamo di fronte è stato determinato ma è stato anche ricordato nella lezione introduttiva da una solida differenza tra le componenti dell'Assemblea ma un'altrettanto solida base comune che ha consentito di produrre quello che è il nostro documento fondamentale per la vita politica istituzionale della nazione ma anche come insieme di contenuti anche qui è interessante rifare il link con le definizioni che Luca De Simoni dava all'inizio perché l'articolo 2 che parla dei valori fondamentali a cui si ispira la Costituzione è molto legato alla definizione che è stata data introduttivamente e quindi questo è un po' quello che emerge da questo discorso e che io penso sia un buon punto d'inizio per il nostro lavoro che tuttavia a me sembra che fin qui come dire è come un pensiero consolante abbiamo dei problemi ma abbiamo anche degli strumenti per affrontare questi problemi mentre nella parte finale entra e introduce fattori di una certa drammaticità perché noi siamo anche dobbiamo essere anche coscienti che questo è un momento che ha tutta una sua drammaticità una sua problematicità anche crea preoccupazione in molti che non è proprio l'atteggiamento che più stimola a un impegno la preoccupazione la paura sono fattori che poi chiamano a un rinchiudersi e la paura e la preoccupazione ha delle basi giuste delle basi di realismo perché noi siamo di fronte a questioni preoccupanti e anche un po' paurose tra virgolette e queste sono la crisi demografica la crisi demografica la povertà che cresce la mancanza di lavoro e è un diffondersi sempre più preoccupante della solitudine no quanta solitudine sappiamo essere presente nelle nostre società e a questo ovviamente si può rispondere solo ovviamente ma non tanto ovviamente si può rispondere solo creando luoghi in cui per prima cosa si vince si vive si offre un rimedio a questa drammatica solitudine che io credo che lo possiamo dire siamo come dire condizionati psicologicamente ma poi questo diventa anche un modo per vivere il contesto sociale cioè non viverlo e questo giustamente si può ricomprendere nell'ambito delle comunità che ci sono e che vanno costruite e ricostruite perché possano essere vere sempre la famiglia la comunità e le varie comunità tra cui anche la comunità religiosa bene dentro questo cosa cosa si può dire dell'educazione che è come l'altro elemento che che dobbiamo mettere sul tavolo per discutere e per aiutarci io non voglio non voglio adesso fare la la relazione bis ma mi sembra importante almeno qualche cosa poterlo ricordare allora il fattore educativo nel contesto costituzionale è stato fondamentalissimo non dimentichiamoci che le costituzioni liberali non consideravano che il rapporto diretto del cittadino con lo stato e che poi era la base per una certa concezione di mercato di produzione economica tutto lasciato al di fuori dell'ordinamento invece la nostra costituzione rompe questo schema e entra e pone come secondo elemento della costruzione valoriale che ha fatto che ha messo in atto proprio la famiglia e la famiglia come fattore educativo non la famiglia come fattore riproduttivo che era un po' la concezione precedente ma la famiglia come come luogo dell'educazione ma da cui poi da cui poi l'esperienza scolastica e tutto quanto circonda gli articoli relativi sia alla famiglia che all'educazione di questo complessa costruzione sottolineo appunto come due elementi primo il legame stretto tra il diritto dovere dei genitori di educare e la libertà della scuola questo diritto dovere dei genitori di educare si esprime anche nella possibilità della scelta della scuola che come sappiamo nel testo costituzionale è una scuola essenzialmente plurale senza paura dobbiamo dirci che poi spesso dentro questo pubblico privato si è creata una sorta come tra i diritti e i doveri si crea un mismatch invece di essere una costruzione armonica che porta allo sviluppo del bene comune ma lo possiamo dire con assoluta tranquillità perché oggi di fronte alla sfida educativa che caratterizza il nostro tempo c'è solo spazio per una grande alleanza che ha basi costituzionali solidissime perché sottolineiamo pure il senza oneri per lo Stato sottolineiamo pure i conflitti sul crocifisso ma sottolineiamo pure perché ognuno se vuole sottolineare gli aspetti di conflitto deve essere libero e deve poterlo fare con libertà ma sottolineiamo soprattutto che l'intento dei costituenti era l'intento di difesa della libertà Aldo Moro lo dice chiaramente in assemblea costituente noi votarono contro l'emendamento Corvino ma noi vogliamo che essenzialmente la scuola sia libera ci interessa la libertà di educare non i soldi dopo l'animo umano sappiamo che perde un po' questo spunto così nobile ma non possiamo dimenticare com'è dopo la vita insomma però però ecco non però perché come io penso che sia importante avere chiara la base di partenza poi ci si può confrontare è giusto che si facciano anche degli errori ma la base è questa e mi ha colpito molto appunto rileggendo tutta questa complessa vicenda dell'educazione nella Costituzione che ci sia questo fondamento fondo solido che i costituenti avevano che era il rispetto della libertà e la congiunzione con la famiglia adesso avendo fatto avendo cercato di accorciare molto avete un attimo di pazienza voglio vedere se ritrovo la citazione di Calamandrei che mi piaceva molto ecco la leggo perché perché dà proprio questo il bene comune vuol dire che non vuol dire un irrenismo vuol dire proprio che c'è un fondamento tale per cui si può serenamente dibattere con punti di vista diversi e diceva però uno dei pilastri oltre che appunto questo tema del pluralismo e della libertà è proprio la concezione della scuola secondo Calamandrei infatti cito una società senza una scuola libera e di qualità sottolineo questo elemento senza un'adeguata diffusione della cultura rischia di compromettere le ragioni stesse del vivere democratico il quale si fonda sulla capacità e responsabilità dei singoli e dei gruppi di comprendere e valutare criticamente i problemi del proprio tempo dei singoli e dei gruppi non deve stupire allora che la scuola sia stata considerata sempre Calamandrei nel 1966 organo centrale siamo a scuola vediamo se qualcuno dice indovina la parola che viene dopo sia stata considerata organo centrale di che cosa? vediamo se qualcuno osa organo centrale della democrazia organo centrale della democrazia e completamento necessario del suffragio universale proprio una non c'è soluzione di continuità no? è il pensiero va bene credo che possiamo fermarci ovviamente never apologize for the dinner dicono i nostri amici però insomma ho provato ci ho provato seriamente ringraziamo la professoressa Violini per come dire aver concentrato in una sola relazione due e averci fatto capire due elementi importanti appunto qual è come dire la necessità di approfondimento delle condizioni entro cui le scelte politiche in vista di un bene comune devono muoversi della possibilità di farlo però da una parte e dall'altra di come questo tema educativo non sia un elemento tra gli altri che si può affrontare affrontiamo il tema della scuola come affrontiamo quello del fisco come affrontiamo quello dell'economia ma uno dei tema dei temi centrali per la come dire sopravvivenza crescita e sviluppo della vita democratica ascoltiamo ora Anna Finocchiaro per la sua intervento grazie grazie innanzitutto dell'invito e capita nella vita pare incredibile io parto esattamente da dove ha finito Lorenza Violini e perché il pensiero poi come dire se il pensiero si muove dentro uno schema dato da una parte da una conoscenza comune e dall'altra parte anche da una attenzione comune capita che il pensiero come dire si avvicini trovi quel letto di fiume nel quale il dialogo si può svolgere io ho sempre pensato che poche disposizioni nella Costituzione abbiano il respiro Lorenza Violini direbbe il sentimento dell'articolo 34 della Costituzione che dice la scuola è aperta a tutti non dice tutti hanno il diritto allo studio non dice lo Stato deve approntare no dice la scuola è aperta a tutti questa idea di comunità con questa forza e con questa capacità impressiva probabilmente ce la sono l'articolo 34 i costituenti raccomandavano leggetelo insieme al 33 come diceva Lorenza Violini poco fa l'arte e la scienza sono liberi e libero nell'insegnamento voi avete capito che magnifica eresia fosse la Costituzione sia stata la Costituzione si veniva dal fascismo non c'era traccia di libertà di insegnamento che andava ispirato a un pensiero unico e chi non la pensava allo stesso modo veniva allontanato dalla scuola la libertà intellettuale veniva ritenuta incompatibile con il crisma ufficiale e poi ci furono le leggi razziali e la prima del 1938 fu dedicata alla difesa della razza nella scuola fascista con l'esclusione ovviamente dalle scuole del regno degli insegnanti e degli alunni che fossero di razza ebraica penso che ciascuno di noi ha nei racconti della propria famiglia il ricordo di quello mia madre mi raccontava che lei era al ginnasio e una delle sue compagne di classe da un giorno all'altro non venne più a scuola i professori imbarazzatissimi spiegarono che non poteva più frequentare perché era una ragazza ebrea peraltro era stata preceduta nel luglio del 38 dal manifesto degli scienziati razzisti ve lo ricordate sicuramente che al punto 7 diceva è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti e venivano escluse le docenti le docenti da alcuni insegnamenti non potevano insegnare filosofia per esempio non potevano insegnare in alcuni gradi di istruzione non potevano insegnare nei licei classici e c'è fu un aumento delle tasse scolastiche universitarie per le studentesse che andò dal 30 al 50% questa era la scuola fascista quindi immaginate che magnifica eresia la scuola è aperta a tutti libera libero e l'insegnamento era davvero il sovvertimento di un ordine che non era solo un ordine politico perché alla dittatura succedeva la repubblica che pure fu una cosa enorme ma era qualcosa di più profondo oggi adopereremo la parola strutturale perché sovvertiva assetti sociali assetti economici assetti culturali dava la cifra della libertà e dell'uguaglianza come diceva Lorenzo Violini a ciò che era stato segnato dalla libertà dalla discriminazione e nel fare questo indicava una visione e una missione per l'Italia repubblicana ovviamente i costituenti sapevano benissimo quanto fosse difficile incarnare questa eresia visionaria mortati ne parlò marchesi addirittura parlò della tironia del bisogno padrone inesorabile invisibile che non avrebbe consentito che la scuola fosse davvero aperta a tutti e che tutti potessero se meritevoli progredire per tutti i gradi dell'istruzione quindi avevano ben presente la situazione eppure non dimenticarono i costituenti di dire che certamente c'era il diritto allo studio ma c'era anche il dovere allo studio e questo si rivela nel secondo gomma che dice l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria ci arriviamo che cosa significa significava che i costituenti avevano ideato pensato di fare degli italiani un popolo consapevole quindi libero di decidere i propri destini in quanto consapevoli i destini individuali i destini collettivi mettendo ciascuno nella condizione di pienamente sviluppare la propria personalità barra vocazione e partecipare all'organizzazione sociale politica economica del paese rimuovendo gli ostacoli che lo impediscano sto ovviamente usando le parole della costituzione le parole dell'articolo 2 le parole dell'articolo 3 quindi una partecipazione collettiva che trova nel diritto all'educazione diritto dovere all'educazione un collegamento immediato individui liberi in quanto consapevoli l'articolo 3 della costituzione ci parla della partecipazione di diritti uguali tutti sono uguali senza distinzione eccetera eccetera ma ci parla anche di un diritto essenziale dell'esistenza di ciascun uomo e di ciascuna donna di ciascun cittadino sviluppare pienamente la propria personalità e così partecipare alla vita politica economica e sociale del paese quindi non solo la libertà ma anche la piena espansione di questa capacità dell'individuo di essere lievito nella società attraverso la partecipazione sociale economica e politica quindi una missione una finalizzazione che è appunto il pieno sviluppo della persona umana precondizione per quella partecipazione soddisfacente e consapevole e questo si vede benissimo nell'articolo 2 della Costituzione che proprio svela secondo me quale idea di società democratica i costituenti avevano in mente non gli dicono solo i costituenti non dicono solo al cittadino tu sei uguale gli dicono sei uguale farò di tutto perché tu lo sia ma lo farò perché dal pieno sviluppo della tua personalità può venire un profitto comune il bene comune alla vita economica sociale e politica del paese quindi il concetto dell'educazione e il concetto del bene comune svelano questo nesso indissolubile l'articolo 2 aggiunge la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni politiche in cui si svolge la sua personalità su questa formazione politica molto si è detto pensate che io ho scritto una tesi di laurea col professore Neppi Modona sulla riforma del diritto penitenziario perché Neppi Modona fu il primo nella sua voce sulla storia d'Italia a dire che per formazione sociale bisognava indicare il carcere pure quindi pensate il luogo che sembra il luogo della soppressione di ogni libertà diventava il luogo in cui la Repubblica veniva chiamata a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo ma dice ancora quindi riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri doveri no inderogabili è l'unica volta che la Costituzione adopera questa parola di solidarietà politica economica e sociale quindi parla di una partecipazione solidaria la parola dovere viene usata ovviamente più volte dei costituenti il lavoro è un diritto ma c'è anche il dovere di svolgere secondo la propria possibilità e la propria scelta un'attività una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della Repubblica c'è il dovere di difesa della patria mi astengo c'è il dovere di fedeltà alla Repubblica sono sobri i costituenti però adoperano l'aggettivo inderogabile che connota i doveri di solidarietà un impegno molto serio che si chiede al cittadino ma non è un dovere privato che il cittadino a cui il cittadino viene chiamato piuttosto un dovere pubblico che ciascuno deve onorare da cittadino ma che concorre a quello con quello di qualunque altro cittadino e tanto più questo dovere è inderogabile quanto più la Repubblica ti riconosce e garantisce i diritti inviolabili questo è proprio un punto c'è già come dire toccato Lorenza Violini ci voglio tornare molto interessante perché non è più il modello classico articolato diciamo in maniera verticale in maniera binaria cioè c'è chi comanda e c'è chi obbedisce il dovere non nasce dalla soggezione a un comando ma nasce da una responsabilità civile che è quella di vivere in una democrazia nella quale i tuoi diritti inviolabili sono assicurati il pieno sviluppo della tua personalità è un compito a cui la Repubblica deve attendere e però tutto questo deve avvenire in un contesto nel quale si esige che tu sia capace di una partecipazione civile solidale cioè i costituenti pensano a quell'attitudine specifica della solidarietà che crea che riforma legami sociali che ricompone soggetti che è capace di integrare civicamente una comunità quindi non è una morale dell'obbligo io ti comando tu sei obbligato quella che adoperano i costituenti ma lasciatemi adoperare questa espressione è la morale di una virtù costituzionale guardate ne aveva già parlato Cicerone nel De Officis ma il fatto che venga assunta in un testo costituzionale con queste modalità e con questa gravità direi serietà dà il senso di quella che era la visione costituente non è soltanto il bilanciamento del diritto col dovere tu hai il diritto alla proprietà privata ma la proprietà privata non può non avere una funzione sociale no è una cosa di più è la creazione di una trama di inessi di responsabilità comune Rodotà definì questa cosa la tessitura fitta delle relazioni tra diritti e doveri ed era un'ottima definizione molto si è detto della solidarietà economica e della solidarietà sociale è stata molto studiata e peraltro noi la vediamo vivere ci sono 5 milioni di persone che in questo paese si dedicano alla solidarietà attraverso il volontariato nel terzo settore ma si è detto poco di questa solidarietà politica che cos'è questa solidarietà politica guardate è una lente cerco di spiegarvelo brevemente perché non so se sto smarginando troppo interrompetemi quando è necessario nel momento in cui si pone questo dovere di solidarietà politica tutti i doveri tradizionali della cittadinanza assumono un nuovo colore diremmo un nuovo contenuto pensate per esempio all'articolo 54 i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore ma che cos'è questo dovere se noi non lo leggessimo attraverso la lente della solidarietà politica ci troveremmo di fronte a un dovere che potremmo definire di servizio qualunque pubblico ufficiale qualunque dipendente della pubblica amministrazione diremmo si deve comportare bene in maniera leale con l'amministrazione in maniera leale con l'utente ma se noi lo leggiamo attraverso la lente della solidarietà politica diventa di più non è soltanto la descrizione di un archetipo di un modello ideale di funzionario pubblico si fa riferimento invece al valore civile di quel contributo si assegna a quel comportamento del pubblico ufficiale un compito difficilissimo quello di tenere insieme moralità e istituzioni perché questo i costituenti pensano è importante per la tenuta del modello democratico costituzionale questo è un passaggio guardate io l'ho studiata da poco questa cosa ma sono rimasta e ho riflettuto da poco su questa questione da qualche mese da quando abbiamo deciso di fare e sono rimasta davvero colpita da questa cosa che si mostrava con chiarezza ancora l'articolo 54 dice per esempio tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi che cos'è un dovere di legalità e basta non devo infrangere la legge no e di più perché i costituenti chiedono a ciascun cittadino attraverso la solidarietà politica di salvaguardare la continuità dell'ordinamento costituzionale nei suoi principi fondamentali la fedeltà alla Costituzione l'osservanza della Costituzione e delle leggi non è soltanto non violare la legge e al contrario l'assunzione di una responsabilità da parte del cittadino perché questa osservanza mantenga integro quel modello costituzionale che è fondato sulla persona umana sui suoi diritti fondamentali e ovviamente sulle istituzioni democratiche sulla partecipazione piena di chiunque alla determinazione dell'indirizzo politico del Paese lo stesso potrei dire per il dovere tributario per il dovere di impugnare le armi per difendere i confini della patria dunque c'è questa lente della solidarietà politica è una lente che agisce nei confronti dei singoli ma che agisce a definire una identità costituzionale è lì in una trama di relazioni ovviamente nessuno è considerato da singolo in quest'opera ma è una trama di relazioni in un progetto di convivenza perché è così la costituzione è un luogo di relazioni ma perché stai insistendo tanto in questa stagione dei diritti di cui tutti siamo così soddisfatti tutti in questa stagione dei diritti come stai stai insistendo tanto sui doveri perché certo la stagione dei diritti è stata una stagione ricca entusiasmante ha eliminato disuguaglianze discriminazioni arricchisce la cittadinanza ha visto prendere parte a questa discussione commentatori politici gente comune mass media intellettuali sicuramente ha fatto segnare un avanzamento al nostro sistema democratico ma io non posso non vedere il rischio della torsione in chi strumentalmente da questo valore che è appunto l'affermazione dei diritti trae una concezione misera della Costituzione che viene considerata da tanti da troppi uno scaffale da supermercato dal quale prendere il diritto che mi serve un take away non è questo quello che avevano in testa i costituenti mai la trama dei diritti fu scissa da questa trama dei doveri che noi oggi leggiamo attraverso la lente dell'articolo 2 quindi il dovere segnato da questa solidarietà politica e dell'altronde è così se siamo una comunità non c'è discorso sui diritti che possa prescindere da un discorso dei doveri perché non c'è diritto forte della persona se non in una rete di relazioni intersoggettiva in cui questi doveri e quei diritti vengono sorretti da responsabilità comune e quindi in questo senso la Costituzione ci orienta ci orienta intorno alla definizione e all'importanza e al valore e alla missione dell'educazione ci orienta rispetto alla definizione del bene comune e come dicevo prima ci orienta anche rispetto a quell'etica pubblica che non può essere esclusivamente declinata come legalità ma che va letta come virtù costituzionale che deve accompagnare l'agire dei cittadini grazie mille ad Anna Finocchiaro perché ha saputo mostrare come la Costituzione è diventato un terreno comune per descrivere i fattori che possano costruire e aiutare a mantenere un popolo libero delle persone libere che lavorano insieme non delegandole a un ragionamento puramente autoritario istituzionale ma neanche sottraendosi rispetto alla valorizzazione della libertà di ciascuno ultimo ospite gradito di questo tavolo Anna Scavuzzo a cui cedo la parola grazie Luca spero che ti sia chiara l'impresa ardua che mi stai chiedendo di compiere perché io che ho contezza insomma delle dimensioni delle proporzioni mi rendo conto che c'è una riflessione che i due interventi precedenti hanno portato anche a una visione rispetto al taglio e alla lettura di quella che è un po' la prospettiva del bene comune anche da un punto di vista generale complessivo io mi arrogo il diritto di riportarla a quella che poi ha la sua attuazione in un pragmatismo anche che forse mi è che forse mi è vicino per carattere ma forse anche per competenza dato che io sono un'amministratrice locale quindi ho un po' anche forse la responsabilità di comprendere come quello che è un disegno generale grande e alto poi trova il suo spazio di attuazione e diventa prassi che i cittadini e noi stessi riusciamo a sentire però in questo comincio col fare una prima considerazione la professoressa Violini ha aperto il suo intervento citando il discorso alla città della Civesco del Pini noi lo abbiamo ospitato come consiglio comunale il sindaco lo ha invitato a Palazzo Marino a presenziare a un consiglio dedicato al dialogo fra il Comune e la Chiesa di Milano e io mi sono soffermata su due passaggi e nell'ascoltare le parole della professora Violini ho proprio un po' anche riletto un mandato importante da una parte questa idea che siamo nel secolo delle città lo diciamo a tutti i livelli questo è un momento in cui le città forse come lo sono state in passato sono davvero delle fucine e contribuiscono al raggiungimento di obiettivi che mano a mano vengono assunti a un livello più alto e viceversa chi traccia le linee di sviluppo e di crescita della regione del paese dell'Unione Europea penso in realtà anche a quello che è un po' l'approccio mondiale poi ci arriverò in fondo ecco non prescinde dalla necessità di avere anche una dimensione locale che mostri quanto quell'indicazione poi ha una sua veridicità nella vita delle persone quindi oggi le città sono quei luoghi nei quali non si fa un abbassamento del livello dell'obiettivo ma si fa una sua concretizzazione trasformando un'istanza e un'idealità in un progetto che è fatto di fasi fatto di passaggi di verifiche di concretezza e quindi credo che in questo dialogo continuo che per esempio la città di Milano è riuscita ad avviare in maniera significativa in Unione Europea promuovendo all'interno di quelli che sono i tavoli che oggi disegnano anche le politiche pubbliche per i prossimi anni questo suggerimento al legislatore europeo e poi alle varie commissioni che disegnano quelli che sono gli strumenti che l'Unione Europea mette a disposizione dei paesi appunto suggerendo di considerare anche le città come interlocutori non solitari ma interlocutori sui quali far conto perché dico questo? perché tornando al discorso alla città e senza la presunzione di correggere l'arcivesco o anzi mi sono accorta che quasi abbiamo fatto una retrocessione di obiettivi addirittura l'arcivesco ci dice siete autorizzati a pensare ci mancherebbe altro cioè siamo arrivati a un'aspirazione quasi da minimo sindacale ma in realtà l'arcivesco è provocatorio perché ci sta dicendo ricominciamo ad avere alti obiettivi ricominciamo a rimettere in moto tutto quello che siamo e da cui arriviamo perché altrimenti ci ritroveremo con una povertà di ambizione anche nel senso puro e sano del termine che rischia di far sì che ci sia un'involuzione sempre maggiore quindi rileggiamo quelli che sono tutti quei comportamenti che erodono anche la nostra capacità di guardare in alto giustamente anche la professoressa ne faceva una serie questo modo di guardare una volta si diceva NIMBY not in my backyards tutto quello ma non vicino a casa mia perché a me dà un po' fastidio oggi c'è una esaltazione di questo che di fatto è una riduzione sempre maggiore dell'orizzonte su cui costruiamo il bene comune allora proviamo a fare un passaggio perché il fatto di riportare le città al centro del dibattito non significa che allora sulla misura della città noi andiamo a disegnare il nostro orizzonte di bene comune anzi l'orizzonte sia sempre quello alto e vasto facevo l'esempio la città la regione l'unione il governo la nazione l'unione europea le nazioni unite noi oggi guardiamo agli obiettivi del millennio come riferimento per il bene comune di tutti anche nella accezione e nella possibilità per le nostre città di contribuire a quegli obiettivi del millennio quelli che le nazioni unite hanno dato e hanno chiamato gli SDGs i 17 obiettivi che danno i capitoli su cui poi ciascuno misura quello che è il contributo la costruzione quelle che sono le politiche attuali con l'impegno a misurarle per capire se su quegli obiettivi si sta lavorando effettivamente oppure si sta facendo una speculazione filosofica ecco che quindi quelli che sono i confini della città l'importanza della città quella capacità della città di essere un organismo vivo positivo che si assume anche la responsabilità di compartecipare al raggiungimento di obiettivi più alti non è invece nella logica not in my backyard finché chiudo il recinto insomma di casa mia e faccio funzionare un ecosistema che dentro è meraviglioso e gli altri si arrangeranno no l'idea è che il secolo delle città sia il secolo di tanti luoghi nei quali si ha un motore positivo con una convergenza di obiettivi in modo tale che si possa a livello locale davvero dare una concretezza a quello che un tempo un po' in maniera retorica si diceva pensa globale agisci locale se non è nella attuazione vera ovviamente quella rimane un po' una come dire una frase che fa sentire un po' cittadini del mondo ma che poi forse si ferma un po' lì ecco che quindi ragionare del bene comune oggi fra l'altro in una città come la nostra che ha da una parte come dire non la fortuna perché io poi sono molto providenziale la fortuna la vedo un po' come un accidente però la responsabilità di far tesoro di un percorso che c'è stato sicuramente con alcuni ingredienti che hanno reso questo un laboratorio particolarmente significativo sicuramente tutta l'esperienza dell'esposizione universale ci ha dato quell'abitudine a guardare molto più avanti e molto più in grande dove questo significa anche nel tempo e nello spazio avere l'ambizione di costruire qualcosa che ci sopravvive e non soltanto costruire qualcosa che domani possa essere in qualche modo raccontabile ecco io credo che questo tempo che sta vivendo la città di Milano sia anche un tempo di consapevolezza e di responsabilità perché noi stiamo contribuendo e non possiamo farlo da solo a quello che è un po' una sorta di risorgimento di cui abbiamo bisogno culturale economico ma anche politico perché se vediamo la positività di questo momento a Milano è anche quella di portare invece un contributo positivo anche al fatto che la democrazia le istituzioni e anche la politica sono un pezzetto del bene comune allora che ci sia una città nella quale nella dialettica delle parti talvolta anche aspramente perché non è che come dire siamo tutti sempre d'accordo e qui c'è una concordia ordimum complessiva nessuno mai discute siamo tutti sempre se passate al consiglio comunale sentite anche delle discussioni come dire talvolta non edificanti altre volte da dibattito politico insomma poi il gioco delle parti è anche il sala della democrazia contestualmente però io credo che stiamo dando un contributo quasi in controtendenza rispetto ad alcuni altri luoghi della politica che invece sono considerati come totalmente altro rispetto alla costruzione del buono comune nel nostro paese cosa gravissima se pensiamo anche nella prospettiva educativa e di messaggio per le nuove generazioni perché invece avere a cuore come primario bene comune la democrazia e le istituzioni democratiche del nostro paese dovrebbe essere un punto di riferimento imprescindibile per qualunque tipo di investimento successivo perché se non c'è democrazia nel nostro paese non c'è neanche la costruzione di quel sogno italiano nel senso proprio del termine che è la costruzione di luoghi nelle quali le persone possano sviluppare in maniera serena felice le loro esistenze questo non è così come dire in questo momento così percepito cioè il rischio che in qualche modo si metta in discussione l'assetto democratico non è così percepito viene un po' in qualche modo evocato come se fosse uno spauracchio o qualcosa per il quale c'è qualcuno però ci sono stati dei momenti molto difficili molto delicati che noi abbiamo attraversato e anche qui nell'accezione di per fortuna che non è fortuna il nostro paese le sta attraversando nonostante forse qualcuno non abbia capito che ci sono alcuni meccanismi anche che vanno rispettati alcuni ruoli del Parlamento del Governo del Presidente della Repubblica che vanno rispettati perché sono le nostre istituzioni torno a casa mia penso che appunto la prospettiva che arriva un po' dalla nostra città sia quella di ricostruire delle basi comuni su cui poi si innestano le dinamiche politiche su cui poi si innesta il dibattito ma da qui venga un messaggio positivo rispetto appunto alla centralità di una responsabilità e di una consapevolezza della politica che si assume anche la responsabilità di tradurre appunto quello che è un dettame alto costituzionale e io poi appunto guardo sempre più in altro rispetto alla costruzione di un bene comune che non sia solamente in qualche modo evocato faccio un altro passaggio perché io credo che ci sia un tema legato alla ampiezza degli obiettivi come dicevo prima e quindi al guardare come il bene comune di una famiglia sta nel bene comune di una società di una città di una regione di un paese di una Unione Europea di un mondo globale e quindi è evidente che anche la capacità e la responsabilità con la quale si leggono le politiche che si fanno non va a ritroso quindi non parte dal singolo ma dà uno sguardo globale ma poi su quel singolo comunque deve tornare per comprendere se effettivamente c'è una centralità lo dicevi prima il rispetto della persona in quanto tale ecco io credo che la difficoltà nostra oggi sia di avere una capacità di uno sguardo ampio che sa tradursi senza sminuire nella prassi poi che si va costruendo quell'afflato alto che dà l'idea di avere invece un contributo positivo alla costruzione di un progetto comune vi faccio un esempio Milano ha scelto il tema del cibo con la costruzione del percorso verso Expo quindi tutto il tema non soltanto della produzione ma dell'accesso al cibo della possibilità del cibo sano per tutti l'acqua potabile tutta una serie di temi che hanno tenuto insieme un afflatto culturale e anche un po' diciamo nelle corde del nostro paese con anche tutto un suo riflesso culturale sociale dentro uno sviluppo economico complessivo perché il comparto come viene chiamato del food muove miliardi di euro ogni anno lo abbiamo portato avanti perché le città non solo noi ma a partire da noi si sono resi conto che per esempio il tema del cibo è uno dei temi legati al bene comune per eccellenza perché l'accesso al cibo sano per tutti all'acqua potabile dal primo bimbo dell'asilo nido all'ultimo degli anziani dell'ultima RSA su cui noi abbiamo una responsabilità è un tema cruciale e centrale non è l'unico possiamo metterci a fare l'itparei dei diritti mi interessa fino a un certo punto io li metterei un po' come dire sullo stesso piano nel senso che se ne manca uno soffrono tutti gli altri però concentriamoci su questo ecco che sul tema del cibo abbiamo deciso di spenderci come città man mano però in un contesto che andava scalando fino ad arrivare agli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite per cui stiamo misurando le politiche della nostra città alla luce di quelle che sono gli obiettivi globali non perché abbiamo manie di grandezza ma perché questo ci permette di costruire anche una rete di relazioni che ci fa parlare con Vienna ci fa parlare con Bruxelles ci fa parlare con Ouagadougou in Burkina Faso ci fa parlare con le città dell'Asia che oggi si stanno avvicinando a questo tema ecco che riusciva a trovare un linguaggio comune per capire anche tutti insieme come discutiamo di quello che è il bene comune dell'umanità e contestualmente lo facciamo alla milanese in modo tale che abbia senso qui per cui il tema del cibo a Milano sarà diverso rispetto al tema del cibo a Ouagadougou piuttosto che a Dakar o a Seul ma abbiamo scelto una piattaforma comune ci siamo dati diversi obiettivi ognuna delle città ha declinato quelli che erano gli obiettivi più vicini anche al dato di realtà della sua città e periodicamente quello che è l'incontro e lo scambio racconta come ciascuna di queste città sta traducendo in prassi gli obiettivi che ci siamo dati la riduzione dello spreco di cibo la possibilità dell'accesso al cibo sano per tutti la bonifica delle acque perché siano per tutti l'educazione alimentare il rapporto fra la salute e il cibo il rapporto fra l'ambiente l'agricoltura e il cibo la capacità di avere un sistema sostenibile dal punto di vista economico ambientale e agricolo questi sono dei temi oggi cruciali e come dicevo prima hanno una declinazione ampia che chiede a tutto il mondo di compartecipare alla costruzione di percorsi che concorrano appunto al raggiungimento degli obiettivi che sono di tutti e per tutti e contestualmente però non ci fa stare con la testa per aria ma ci chiede anche di avere pragmaticamente un hub di quartiere per riuscire a trasformare le eccedenze alimentari in risorsa per tutte le realtà sociali che possono distribuirle ci fa costruire dei percorsi amministrativi per cui c'è un incentivo per le aziende che vogliano donare il cibo invece che vogliono conferirlo in termovalorizzazione ci sono una serie di percorsi concreti che riescono a dire come noi partecipiamo all'obiettivo del fame zero nel 2030 ecco io penso che questa sia la dialettica nella quale si trova e poi vado a chiudere e la nostra città nel riuscire ad avere in questa costruzione di ragionamento collettivo non una visione appunto quando si parla del modello Milano sono tutti un po' giustamente anche affaticati perché mi sono rotta io del modello Milano immagino quelli che lo sentono da fuori però ci sono alcuni ingredienti positivi e quindi su quegli ingredienti positivi innestare delle politiche che siano misurabili chiare credibili che sia evidente qual è l'obiettivo che vogliono raggiungere che siano fonte di una ricerca di alleanze fra il settore pubblico e il settore privato fra le istituzioni anche dei diversi livelli fra le diverse istituzioni che spesso parlano una lingua politica diversa con l'idea che intanto il bene comune possa avere diversi come dire fiumi che portano un contributo ma ha la possibilità di essere davvero un obiettivo per tutti pensate alla lotta alla fame pensate alla possibilità di accesso a una casa per tutte le famiglie poi ci discuteremo il come e quali sono le politiche più adatte ma quello è il sale della politica riuscire a misurarsi per comprendere quanto siamo bravi a raggiungere degli obiettivi che ci siamo dati chiudo con una come dire riflessione lo dicevo prima nello spazio e nelle dimensioni dicevo abbiamo un approccio locale guardando quelli che sono gli obiettivi del millennio e quindi è una riflessione ampia sulla parità di genere sulla possibilità di accesso all'istruzione per tutti sulle libertà nel lavoro tante sono come dire quei mattoni che oggi ci danno gli obiettivi però c'è anche un tema di tempo allora forse dobbiamo tornare a renderci conto e anche a dircelo perché c'è un tema forse anche di timidezza eccessiva che c'è bisogno di tempo per realizzare i progetti e che i tempi della politica oggi non sono dei tempi compatibili con la serietà dello sviluppo dei progetti quelli seri allora noi abbiamo come ci ricordava prima la professoressa come ci diceva la senatrice ci sono dei temi anche di fatica nell'attuazione istituzionale prima ricordavi la ridondanza anche di normative che ogni tanto rendono faraginosa e faticosa la pratica amministrativa contestualmente però se la costruzione del consenso è una costruzione che è un driver così forte da avere degli obiettivi di minima a una settimana 15 giorni un mese sei mesi si tira a campare beh bisogna però essere come dire consapevoli del fatto che quella però è una modalità da tirare a campare allora questi sono settimane nelle quali quella famosa citazione che spero di far bene ma che non sono un mago delle citazioni non so se fosse di Clerc di Gasper ognuno se la gira come vuole anche dice il politico pensa alle prossime elezioni lo statista alle prossime generazioni ecco forse senza immaginare di essere tutti statisti però anche la politica ha bisogno di pensare alle generazioni per davvero e contestualmente le persone si devono rendere conto però quando le prospettive che stanno ricevendo sono per catturare consenso invece che per creare un'alleanza e una fiducia se io vi dico che noi risolveremo il problema delle case popolari in sei mesi dico una cosa sulla quale posso strapparvi il vostro voto prossimo perché farò di tutto ma poi non è possibile allora io credo che invece oggi sia necessario anche ridare il tempo giusto avere uno scambio che misura come dicevo prima l'avanzamento delle politiche noi abbiamo scelto il counter per cui ogni settimana viene aggiornato il counter di liberazione degli alloggi è uno degli strumenti ce ne sono diversi però in questa reciprocità la politica deve misurarsi con un come dire con una costruzione di consenso che non sia così volgare e dall'altra parte però abbiamo bisogno che si ritorni ad avere quella responsabilità anche da parte dei cittadini in modo tale che ci sia un'esigenza vera che viene espressa e non soltanto quello di essere rassicurati non è facile lo sto dicendo a una platea qualificata quindi come dire lascia un po' il tempo che trova ovviamente c'è un problema di narrazione e di racconto con tutte le persone che oggi fanno più fatica e non è sputandogli in un occhio allontanandoli o tacciandoli di stupidità che noi riporteremo le persone ad avere invece un rapporto sano e serio ma questo e questo credo che sia un altro dei ruoli delle città è un compito fondamentale perché la democrazia senza i cittadini non esiste grazie possiamo dire che se uno statista pensa alle prossime generazioni un politico alle prossime elezioni un assessore pensa alla prossima assemblea di quartiere ecco questo è un po' l'orizzonte con terrore ringraziamo anche il vice sindaco e io lascerei subito la parola a voi se avete domande richieste di approfondimento c'è qua Chiara che può passare un microfono basta alzare la mano e vi arriverà immediatamente eccone una altrimenti ne approfitto io volevo riprendere il passaggio della signora Finocchiaro quando dice Nicola grazie della signora Finocchiaro quando dice che il dovere nasce non dalla soggezione a un altro ma dalla responsabilità individuale personalmente assisto ad una progressiva ad un progressivo calo del senso di responsabilità sia individuale che collettivo generalizzato e quindi vorrei chiedere alle persone sul palco se se questa prima di tutto se questo punto è condiviso e se lo è quale può essere o quale possono essere le motivazioni le ragioni di questo calo di senso di responsabilità perché conoscendolo forse si riesce a capire meglio da dove poter ripartire grazie facciamo una raccolta così diamo la possibilità buongiorno mi chiamo Ludovico sono un laureando di scienze politiche volevo fare una domanda a tutti ai tre che parlano più che altro ho sentito di varie responsabilità diritti di doveri e cose giustissime la mia domanda è semplice che forse la dottoressa Scavuzzo voleva accennare qualcosa ma penso per il tempo non ci sia riuscita la responsabilità politica cosa qual è il vostro pensiero a riguardo grazie iniziamo da queste due magari partendo dalla senatrice Finocchiaro che è stata chiamata in causa rispetto a quel passaggio sul tema della responsabilità individuale e poi anche con un affondo su che cosa significa allora responsabilità politica allora sì anch'io ho la stessa sensazione che c'è un progressivo allentamento del senso di responsabilità collettiva nel paese diciamo che questa è anche una delle ragioni per le quali stiamo lavorando alle scuole di educazione chiamiamola così alla cittadinanza ecco più che scuole di formazione politica perché comunque di questo si tratta nel senso che si forma politicamente il cittadino non che si orienti il cittadino in un modo piuttosto che un altro ma probabilmente siamo ancora ancora un passo indietro quindi all'educazione della cittadinanza sì è vero che c'è un progressivo calo del senso delle responsabilità quali sono le ragioni secondo me le ragioni sono due sostanzialmente ma la più seria è data dall'assenza di una visione di una missione di un progetto comune e la visione la missione del progetto comune la costruiscono gli individui ma la costruisce in gran parte la responsabilità è in gran parte della politica così come si articola e a tutti i livelli ora per esempio io ascolto Anna Scavuzzo e dico no qua a Milano non c'è perché è una visione un progetto una missione collettiva io la leggo e rispetto a questo è possibile articolare responsabilità non sempre è così e questo smarrimento di visione guardate è anche comprensibile i mutamenti che hanno investito anche lo stesso esercizio del governo sono stati straordinari pensate soltanto a che cos'è per esempio per chi governa il fatto di dover utilizzare strumenti che non sono quelli che quella maggioranza o l'ordinamento fornisce ma per esempio il governante è investito da tutta una parte molto grande di regolazione che viene dall'Unione Europea e questo significa che dovremmo giovarsi di classi dirigenti che sono capaci di diventare come diceva Anna Scavuzzo un pezzo del percorso della decisione interferire nel percorso della decisione che va dallo Stato nazionale all'Unione Europea e dall'Unione Europea rispetto allo Stato nazionale quindi in definitiva ve lo dico molto brutalmente e vi dico quello che penso io credo che il nostro sia complessivamente un paese di declino culturale in cui sono in declino le classi dirigenti ovviamente ci sono fortunatamente le eccezioni luminose e in cui è in declino quella idea di partecipazione che è un come dire un principio culturale prima ancora che politico di partecipazione complessiva alle sorti della comunità vince il bimbi non nel mio cortile e se vince il bimbi quindi questa idea si faccia pure ma non nel cortile di casa mia questo significa che viene esasperata quella concezione di cittadino solitario o meglio cittadino in solitudine di cui parlava Lorenza Violini e che ovviamente nega che stiamo su questa terra in questo paese perché siamo legati da una trama fittissima di diritti e doveri rispetto a una visione e una missione se la politica non fosse in grado di farlo in altri tempi probabilmente avrebbero dovuto farlo farlo e oggi potrebbero farlo le forze vive della società che sono forze intellettuali forze culturali forze associative forze civiche solo che all'opera bisogna accingersi allora io penso che sia il tempo di darsi già questa missione che è la missione di sostenere il senso di responsabilità lì dove lo si rintraccia nelle amministrazioni nella società nella scuola tra le professioni ovunque questo senso di responsabilità si rintracci e dall'altra parte lavorare perché questo senso di responsabilità torni a vivere attraverso un rinnovamento culturale della nostra appartenenza alla comunità democratica noi ce lo scordiamo che la democrazia continuerà a vivere se noi continueremo a difenderne come dire l'essenzialità dimentichiamo che i pubblici uffici saranno in grado di corrispondere tutte le volte in cui saremo capaci di dare voce a chi ha un diritto e magari non ha la voce o di alzare la nostra voce nel momento in cui con le istituzioni ci misuriamo tutti noi dovremmo tornare a capire che da soli non siamo in grado di fare niente nel cortile di casa nostra niente almeno che possa avere un senso che ci consenta una volta che verchiamo il cancello del nostro cortile di trovare una comunità accogliente e orientata diciamo dagli stessi principi e dunque tendenzialmente capace di assumersi la responsabilità è un lavoro io lo credo veramente un lavoro di rifondazione guardate poi ci sarebbe moltissimo da dire sul fatto che il senso di responsabilità si attenua tutte le volte in cui pensi che la condizione umana sia una condizione solitaria e il senso di responsabilità si enfatizza tutte le volte in cui sei capace o sei immerso in una trama di legami penso che è anche una cosa che dobbiamo esigere in quanto cittadini senza esprimere ovviamente nessuna preferenza ma credo che dobbiamo esigerla anche delle classi dirigenti politiche questo è quello che io penso sulla responsabilità ed è sostanzialmente la stessa cosa che penso sulla responsabilità politica nel senso che per rispondere anche alla seconda domanda la responsabilità si chiede e si esige e si misura io non so cosa lei cosa avesse in testa quando ha formulato la domanda ma penso che la responsabilità politica si misura e si misura ovviamente come accade in ogni democrazia ogni qual volta si dà un giudizio su un governo su un soggetto che partecipa alle istituzioni per via elettiva ma la responsabilità politica si misura anche rispetto ai cittadini io penso che sia importante tornare a restaurare anche proprio forzando culturalmente in controtendenza nuotando controcorrente perché altrimenti non ne usciamo non ne usciamo avremo una comunità di individui soli più deboli e ovviamente dove le disuguaglianze esploderanno perché se io sono professore universitario o ex parlamentare o amministratore non ho problemi economici non ho problemi culturali leggo qualunque testo viaggio all'estero ho relazioni è un conto se io sono in vera difficoltà perché sono disoccupato non trovo un lavoro perché non ce la faccio ad arrivare a fine mese e ovviamente non posso dare ai miei figli la speranza di un percorso di mobilità sociale che gli consenta di esprimere pienamente la partecipazione umana in una società di soli tutto questo è drammatico e non fronteggiabile in una comunità in cui ciascuno si piglia un pezzo di responsabilità anche per l'altro questa cosa tende verso la soluzione non è che si risolve da un momento all'altro ma tende verso una soluzione più o meno credo che sia questo quello che diciamo di getto mi viene mi viene da rispondere e poi soprattutto e l'ultima cosa che dico secondo me dobbiamo tornarle a usare la parola responsabilità e la parola dovere guardate sono quasi sparite dal lessico pubblico responsabilità e dovere sono parole quasi sparite professoressa Violini mi accodo proprio così a fotocoppia diciamo con quello che ha detto la senatrice Finocchiaro e sì non lo so ecco io faccio molta fatica a guardare la società oggi e non lo nascondo mi sembra che anche quando guardo i miei figli tante volte mi pare di essere proprio dall'altra parte figli che condividono tantissimo dell'impostazione della famiglia ma la modalità di approccio all'esistenza cambia questo disorientamento rispetto al cambiamento confessione pubblica ma non è che non drammatica semplicemente recettiva per condividere anche una una percezione un senso questo disorientamento io lo sento io lo sento in modo molto 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 pesante così come sento in modo molto pesante credo l'impotenza davanti al potere e questo credo che sia un altro dei fattori che 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 ci fa un po' paura come non dobbiamo aver paura di dircelo ci fa un po' paura il senso anche di impotenza politica prima che ancora di responsabilità politica veramente di fronte a certi fenomeni così ci si ci si chiude ed è pertanto quanto mai importante che ci sia un luogo luoghi dove dove ci si possa aiutare a capire perché insomma dobbiamo anche essere molto trasparenti cioè la politica ha vissuto una crisi quasi pari alla alla crisi alla crisi della nostra dell'uomo del soggetto una crisi epocale e questa crisi che dopo la caduta del muro di Berlino lo sfaldamento dei partiti tradizionali la fine delle ideologie che comunque facevano un bel fattore un bel collante non è per fare il nostalgico ma alla fine si sapeva più o meno dove ci si collocava socialmente che tipo di progetto politico si aveva anche solo tramite lo strumento del voto perché lo strumento del voto non era assolutamente uno strumento percepito come inutile si andava e quindi se non voglio fare l'elogio del passato dico solo che dico solo che bisogna ricominciare ricominciare veramente da capo e le cose che pian pianino stiamo cercando di mettere insieme possono forse aiutare aiutare a ricostruire il terreno dove si può seminare declino la domanda per l'assessore Scavuzzo su alcuni casi concreti prima è stato detto che uno dei temi che il politico deve affrontare è il tema del consenso e ci hai raccontato di obiettivi alti e provvedimenti conseguenti facendoci l'esempio diciamo delle politiche sul cibo e di tutto quello che ha fatto il comune di Milano di recente sono però diciamo però ci sono due elementi che due diciamo dei libere provvedimenti che il comune di Milano sul comune di Milano si sta molto battendo che sembrano estremamente impopolari che mi riferisco ad area B cioè la ZTL ecologica che sostanzialmente impedirà l'accesso a gran parte della città a mezzi vecchi e che partirà lunedì così ce la ricordi e l'altro è all'aumento del biglietto del biglietto del tram su cui addirittura mi ha molto colpito come logica il sindaco ha chiesto quasi una mobilitazione popolare in favore dell'aumento del biglietto cosa diciamo abbastanza interessante dal punto di vista della scelta politica rispetto a questa creazione del consenso allora ti chiederei di illustrarci questa cosa alla luce delle due domande fatte sulla responsabilità dei cittadini e la responsabilità politica e se vuoi anche rispetto a come questo sta insieme nel lavoro come dire politico quotidiano anche alla come dire costruzione del consenso sui provvedimenti e poi sulle azioni di un'amministrazione dunque ovviamente quando poi decidi di prendere alcune decisioni e decidi scindi quindi ci sarà qualcuno più vicino e più contento della decisione ci sarà qualcuno meno contento ci saranno degli effetti collaterali ci saranno delle riflessioni che potranno correggere un provvedimento io penso che conseguente al discorso che facevo prima il sindaco in questo tempo abbia deciso che politicamente uno dei temi importanti per la nostra città che taguardasse al futuro era quello del tema ambientale declinandolo in tutte le sue accezioni anche il tema del cibo di cui parlavo prima ha un risvolto ambientale importante tanto è vero che stiamo lavorando proprio su quello il tema della mobilità è ovviamente un tema cruciale lo abbiamo affrontato già in passato perché se ti ricordi questo provvedimento di area B non nasce come un fungo quindi io dico che un primo elemento è non l'estemporaneità di un provvedimento ma un ragionamento che fa degli step successivi quindi un obiettivo non decidi dall'oggi al domani che è il tuo obiettivo e cominci con una misura impopolare o pesante per come dire da uno scossone però ti inserisci in un solco io poi per tradizione sono informista non rivoluzionaria quindi faccio fatica da vedere come dire la possibilità di sconquassi mentre invece un passo alla volta poi magari certe volte servono gli sconquassi ma non è questo il campo di discussione allora cosa succede area B non nasce sotto un fungo quindi il primo ingrediente che sta in un percorso c'è stata area C che non era esattamente un provvedimento ambientale ma era un provvedimento di congestion si chiama C perché c'era questa idea di riabituare le persone ad avere uno spazio all'interno del centro che non fosse così congestionato come prima poi come effetto collaterale aveva anche una riduzione delle emissioni abbiamo lavorato sulle caldaie perché in realtà la prima fonte di emissioni in atmosfera di particolato sospeso come dire nefasto sono in realtà le caldaie soprattutto quelle a gasolio quindi ci sono stati una serie di passaggi sulla verifica delle caldaie obsolete i piani con le ESCO per valutare di incentivare anche nei privati i cambi un impegno faticoso perché poi le normative sugli appalti per gli appalti pubblici sono complicate però noi abbiamo delle caldaie a gasolio ancora in alcuni degli immobili di case popolari e degli uffici quindi su quello dobbiamo lavorare e contestualmente si è deciso di fare uno passo successivo già sul tema la regione si era spesa più riprese anche con degli stop and go però c'era tant'è vero che c'è un problema ma anche di come dire ragionamento congiunto delle ordinanze distinte e oggi lunedì andremo a dire ai milanesi e non solo perché è un provvedimento che non impatta solo sui milanesi ovviamente ma questo è un altro tema che guarderò fra un minuto quando avete un veicolo inquinante intanto in queste categorie che sono quelle classiche di inquinamento massimo 0,1,2 sul diesel benzina 0 che penso ci siano solamente macchine d'epoca o mai così e con l'idea di dire diamo un fermo perché finché non daremo un fermo non cambierà mai nulla il piano in realtà non so se vi è capitato di vederlo è un piano pluriennale per cui si dice cominciamo così guardate che poi lo scenario va verso di là vi posso dire io un tema sul quale secondo me dobbiamo lavorare di più e meglio è una valutazione con le case automobilistiche rispetto a quelle che sono i tassi di ammortamento sugli automobili oggi in commercio perché non sono più quelle degli anni 80 con una come dire anche il loro vetustà che ne faceva in poco tempo perdere un po' il valore noi oggi un euro 6 comprato oggi è una macchina che riesce a pedalare ancora lungo un tempo non è che non pedalassero ci trovavamo macchine che avevamo anche per 20 anni però diciamo il valore diventava un valore quasi nominale allora oggi c'è un tema perché ovviamente questo è davvero un cambio di virata importante e tutto il sistema lo deve accompagnare io mi sono infilata a un certo punto nell'appalto del leasing per le auto della polizia locale perché non è stata tolta l'indicazione del diesel e ho detto ragazzi se andiamo tutti su Aria B non è che facciamo gli appalti ci compriamo le macchine diesel per il futuro a me hanno regalato quasi mi hanno dato incomodato d'uso una macchina mi hanno fatto una testa come un pallone perché è un diesel è un euro 6 e ho detto intanto la prendo la uso finché si potrà dopodiché non la userò più quindi come dire comprendo il problema dal punto di vista dei cittadini penso che però nell'assunzione di responsabilità rispetto a quel ragionamento di lungo periodo di prospettiva e di come dire anche forse audacia questo sia in quel solco poi ci saranno molti contrari molti e staremo nel dibattito perché ovviamente siccome non è una dittatura questa il dibattito anche aspro che potrà eventualmente portare in corso d'opera ad alcune modifiche è il sale della responsabilità politica che ci prendiamo perché assumersi una responsabilità significa assumersi un onere che è anche quello di spiegare e di sostenere il contraddittorio quando io vado in un'assemblea a dire che non metterò la telecamera dove mi hanno chiesto di metterla e sarebbe comodissimo uscire da un'assemblea di 300 cittadini incazzati perché vogliono la telecamera sotto casa loro dove c'è stato sarebbe comodissimo dirgli va bene ve la do e la sistemiamo ma se quell'incrocio non sta nel piano complessivo c'è già un'altra cosa mi stanno chiedendo una cosa che non ha senso io devo sopportare la responsabilità perché io ho il potere di decidere se sì o se no e siccome il potere ce l'ho io ho anche la responsabilità e devo assumermi l'onere di mantenere di giustificare e talvolta anche di avere la fatica di stare in una decisione che può in quel momento sembrare impopolare poi ho anche la responsabilità di vedere se ho fatto bene perché se poi quella decisione è sbagliata e aveva ragione l'assemblea io in qualche modo devo renderne conto e non nascondermi secondo questione è un momento del biglietto oggi c'è un fatto che io credo che i milanesi questo per tradizione per vocazione per abito non so sul tema della sostenibilità siano un po' abituati cioè che nessuno ti regala niente è un po' che non significa che non siamo solidali che non facciamo volontariato che non abbiamo il senso del gratuito no penso che non dovevo raccontare a nessuno di voi dall'altra parte però sappiamo che le cose per camminare per funzionare devono essere sostenibili e quindi se vogliamo una rete dei trasporti che va crescendo se vogliamo e ci piace avere la metro 4 la M5 andare a Monza eccetera eccetera poi possiamo discutere di come sono stati fatti i project financing ma non ne parlerò qui oggi possiamo fare tutto quello che si vuole e forse avrà senso perché se qualcuno andasse a vedere come era stato fatto il project di M4 vedrebbe nel piano economico finanziario che cosa si diceva del biglietto e a quanto si immaginava che avrebbe dovuto essere portato il biglietto per sostenere quelle che nei prossimi anni ve lo anticipo già saranno oneri a carico del comune e se nessuno ci darà dei soldi dovremo trovarli da qualche parte quindi la decisione è stata stante che questo è un dato di realtà non è politica questo è un dato di realtà e la responsabilità politica sta nel raccontarlo se volete portiamo qua i piani di M4 per vedere come è fatto il piano economico finanziario di M4 e capire come cammina detto questo abbiamo fatto una scelta politica secondo me io lo dico tanto mai il dibattito io non ero esattamente d'accordo io avrei aumentato almeno sull'istat anche gli abbonamenti ho perso nel dibattito di giunta però io proprio perché so che i milanesi lo sanno che comunque i soldi non crescono sotto le pere e se c'è l'istat per tutta l'Italia c'è l'istat anche per l'abbonamento non aggiungo nulla non mi pare una scelta politica anzi forse se tutte le nostre tariffe accompagnasse l'istat sarebbero più veritiere i servizi sarebbero compatibili perché se il costo del lavoro aumenta se il costo delle materie prime aumenta quelli che sono gli appalti ma chiunque di voi abbia una piccola impresa non sa cosa vuol dire non è possibile che non si ritocchi rispetto a quelli che sono i costi complessivi ma questa è politicamente abbiamo detto facciamola digerire un po' di più perché toccare il biglietto è sempre un caos allora lavoriamo sul biglietto singolo alzi la mano chi strutturalmente usa il biglietto singolo lo usa chi piglia la metropolitana una volta ogni tanto il tram una volta ogni tanto giustamente chi arriva da fuori o chi fa due conti e gli conviene pigliarsi il biglietto singolo invece che il settimanale o quant'altro sono andata a vedere il museo che racconta la nuova edificazione della nuova linea della metropolitana di Vienna è molto carina e fa un lavoro secondo me fantastico che infatti ho stonato la testa a Corretore e a Terragni perché raccontare l'opera secondo me serve cioè serve far capire cosa succede lì c'è anche un benchmark importante perché fa vedere la storia di tutte le metropolitane Tokyo Milano Monaco Vienna Parigi Londra Madrid Barcellona eccetera eccetera fa vedere quanto costa quant'è la copertura della linea quanto costa il biglietto singolo quanto costa l'abbonamento non è che noi siamo fuori del mercato no tanto per dirlo soprattutto sugli abbonamenti non abbiamo abbonamento a Londra è vero che poi c'ha la Oyster le menate eccetera eccetera ma costa una saponata ecco allora noi stiamo cercando di spiegarlo il più possibile perché c'è un tema di ragionevolezza come diceva la professoressa all'inizio allora siccome non voglio fare nessuna polimica politica quindi non farò paragoni sui sistemi di trasporto lombardi ma siccome la TM funziona c'ha tanti limiti però bisogna tenerlo in bolla e un sistema come quello non può non essere ogni tanto anche ritoccato allora se siamo tutti d'accordo che la cartella di nostro figlio quando passa dall'elementare alle medie va cambiata perché se no non ci stanno dentro le cose e bisogna fare un investimento perché è cresciuto è diventato più grande e non ci sta più nei vestiti di prima bisogna comprargli dei vestiti nuovi contribuiamo tutti secondo me questo è il metodo più indolore anche per i cittadini milanesi perché e in questo poi chiudo anche area B è un provvedimento che ricorda al mondo che a Milano non lavorano e vivono solo i residenti a Milano che pagano le tasse a Milano ma sta in ecosistema ampio tant'è vero che anche il discorso del biglietto sta in un discorso di biglietto integrato con l'idea di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico anche per chi di prima fascia invece che usare la macchina mettercela nelle corna in via Padove pigliarsi poi la metropolitana a Cimiano dove diavolo se la lascia direttamente a casa perché gli conviene allora io penso che abbiamo messo un po' di ingredienti per cui il sindaco possa dire aiutateci perché forse stiamo cercando di guardare un po' più lunga di cui stiamo facendo le statistiche mi sembra eccessivo però stiamo cercando di fare una politica un po' più lunga piuttosto che quella di consenso che invece direbbe noi andiamo a voto fra due anni gratis della metropolitana grazie ad Anna allora direi questo ci riserviamo una pausa di una quindicina di minuti c'è un coffee break qua fuori e le nostre ospiti sono ancora qua per cui per chi ha voglia era timido gli è venuta in mente una domanda solo adesso può fargliela allora sono qua disponibili eccetera ricominciamo alle 11 e un quarto con il secondo panel grazie ok ricominciamo questa diciamo seconda sessione più maschile vabbè ce la mettiamo via abbiamo pensato di fare così in questa come direi in questa seconda parte vorremmo chiedere ai nostri ospiti che ringrazio per essere venuti diciamo da fuori da Rimini dottor Sanese e da Roma Gigi De Palo a cui chiediamo molto semplicemente rispetto al tema che ci siamo dati e ai contenuti che abbiamo sentito questa mattina di raccontarci la loro esperienza la loro esperienza di amministratori la loro esperienza nell'ambito delle istituzioni pubbliche e come questo in quello che hanno fatto che adesso ci racconteranno illustra alcune delle cose che abbiamo sentito stamattina mi viene da dire questo per riprendere alcuni dei contenuti di questa mattina abbiamo capito che una risposta possibile a questa solitudine che genera questa paura che genera questa insicurezza che vediamo e constatiamo in noi e nei nostri figli nelle persone che ci circondano è una come dire un richiamo che è stato fatto alla responsabilità nei confronti del bene di tutti è un richiamo che è stato fatto al mettersi in relazione in rapporto con chi ci è di fianco come risposta specifica a questo a questo problema quindi diciamo a non chiudersi ma aprirsi incontrarsi e quindi riprendendo diciamo quella parte che avevamo detto all'inizio sul tema del bene comune che riguarda la persona ma riguarda la persona subito messa in relazione con gli altri subito messa in rapporto con gli altri è la ricostruzione la ripartenza da queste relazioni rapporti che sono rapporti personali che sono rapporti familiari che sono o generano corpi intermedi associazioni sindacati partiti e costituiscono in qualche modo la stoffa la possibilità perché le istituzioni e la democrazia possa sopravvivere perché la società possa crescere vi presento brevemente i nostri ospiti non hanno bisogno di presentazioni ma lo faccio lo stesso e mi sono preso anche due appunti Nicola Maria Sanese è stato deputato dal 1976 al 1987 grosso modo di più 94 94 quattro volte sottosegretario nei governi Craxi Fanfani e De Mita questo per dire il primo pezzo della sua vita impegnato come dal punto di vista politico e poi dal 1995 al 2012 è stato segretario generale in regione Lombardia durante tutta la presidenza di Roberto Formigoni e quindi gli chiediamo di raccontarci soprattutto in questa veste diciamo così di amministratore nel senso di uomo impegnato nella pubblica amministrazione di dirigente diciamo così della pubblica amministrazione che cosa ha significato nella tua esperienza servire o lavorare per il bene comune sì prendo quest'ultimo pezzo di esperienza perché appunto sono state tante un'esperienza molto singolare molto particolare naturalmente qualche pennellata per cercare anche di essere utile perché alcune cose ovviamente fanno parte di un periodo storico è stato detto anche prima che non è superato quindi alcune categorie alcuni fatti sì possono essere utili ai fini di una documentazione storica ma non sono di attualità allora qualche pennellata che sia utile per lo scopo di questa scuola tutto inizia il 27 giugno del 95 giorno e anno mese in cui Roberto Formigoni viene eletto presidente di regione Lombardia e a quei tempi non c'era l'elezione diretta ancora quindi viene eletto presidente e insiste che io vada a lavorare con lui allora si chiamava capo di gabinetto poi nel frattempo sono state varie modifiche fino a fare il segretario generale quindi diciamo il ruolo di politico amministratore Roberto Formigoni ruolo dirigenziale che viene chiesto a me io venivo da una lunga esperienza politica 18 anni non avevo più intenzione di farla perché io ho sempre considerato l'impegno istituzionale politico come servizio vengo da questo tipo di educazione per cui io avevo una scadenza e alla scadenza non mi sono più ricandidato e quindi è stata una mia scelta perché avevo questa impostazione che io credo tuttora valida e Formigoni dice perfetto quindi va bene perché vuol dire che tu non vuoi più fare politica e io ho detto va bene e facciamo un patto Formigoni sarebbe stato il leader politico che poi è stato e amministratore successivamente con l'elezione diretta anche appellati come governatori seppur impropriamente perché la costituzione qui ho dei costituzionisti non voglio dire delle cose inesatte è stato più diciamo un titolo dato in forma giornalistica è chiaro che Formigoni lo cito adesso una volta per tutti a mio parere è stato ed è un grandissimo leader politico uno dei io ho avuto a che fare perché nell'esperienza precedente sì certo Fanfani Demita Craxi tutti i personaggi importanti ma io ho fatto per tre anni il segretario organizzativo nazionale della democrazia cristiana e quindi ho avuto a che fare con tutti i leader vi posso assicurare che Formigoni come capacità come lo dico adesso questo non toglie che se uno anche se quel tipo di vicenda purtroppo è inquinatissima per ragioni non legate al diritto penale diciamola così e basta bene c'era un programma elettorale che lui mi chiama io dico naturalmente come sempre io sono sempre stato chiamato non ho mai cercato queste cose strane della mia vita e ho sempre detto di no come prima istanza nel senso che a me piaceva stare a casa mia del mio lavoro io ho sempre lavorato negli alberghi nel turismo anche mi piace quella roba lì e mi dice guarda qui c'è un programma adesso dobbiamo realizzarlo io ho detto ma questo programma in cosa consiste consiste in alcuni principi stai bene a sentire mi ha fatto leggere un sacco di roba allora libertà di scelta se noi dobbiamo assolutamente fare in modo che nel nostro lavoro amministrativo come regione 10 milioni di abitanti presso a poco fondamentale è la persona il cittadino quindi noi tutto quello che andremo a fare la chiave di volta essenziale è la libertà di scelta questo varrà per l'educazione per la salute per il lavoro per l'impresa bla 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 secondo dobbiamo fare in modo che questa benedetta sussidiarietà di cui ogni tanto si parla la dottrina sociale della chiesa erano i tempi in cui si facevano tante scuole tanti incontri si parlava spesso di questo c'erano anche alcuni pontefici alcuni sarebbero venuti dopo a ripristinare diciamo questa questa modalità di intendere l'esperienza religiosa applicata al sociale all'economico e al politico e quindi partendo dai cosiddetti corpi intermedi la famiglia le imprese le associazioni eccetera eccetera e poi terzo passaggio le istituzioni le regioni non godevano di buona fama allora erano arrivate in ritardo 1970 con fatica erano un po' acciaccate e quindi in particolare quella di questa regione molto acciaccata la giunta era appena stata tutta intera recluse e quindi è un disastro e noi dobbiamo ridare un attimo di come dire dignità a questa istituzione sia verso in alto quindi governo stato eccetera e sia in basso quindi le province comuni comunità montane camere di commercio università eccetera eccetera ma soprattutto rispetto ai soggetti sociali come ho detto prima diciamo come si intende la sussidare i corpi intermedi eccetera bene tutto questo da dove nasceva questo programma perché dico ma questa è una cosa che riguarda te come persona siamo noi due perché noi due forse una cena insieme ce la possiamo anche consentire concedere e questa è una cosa micidiale e bene sto banalizzando ovviamente un pochino c'era tutta una posizione ideale da parte di ciascuno una forte condivisione di questa posizione perché senza una forte condivisione tutto quello che poi è stato fatto vi dirò soltanto qualche titolo non si sarebbe potuto neppure immaginare perché i tempi diversi da quelli di oggi erano comunque tempi cattivi perché i tempi sono sempre quelli che sono e quindi c'era un ideale una posizione ideale da parte di ciascuno che era nato da incontri incontri personali incontri con la fede incontri con Cristo incontri con un'amicizia anche gente che non credente però che credeva in una condivisione in un rispetto dalla persona eccetera eccetera e quindi anche l'appartenenza è una storia una storia anche geograficamente diluita in varie parti del territorio c'è una frase che adesso vi leggo solo questa frase però così per soddisfazione dopo mi dovete dire da dove l'ho presa sentite questa frase ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare che riconosca i limiti della sua attività che rispetti i nuclei e gli organismi naturali la famiglia le classi i comuni che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private eccetera eccetera questo qui è l'appello che è stato scritto il 18 gennaio 1919 Sturzo come vedete certe cose sono sempre attuali dopo il problema è come fare a realizzare una cosa del genere io quello lo tengo sempre dietro perché è interessantissimo ma bisogna leggerlo tutto vabbè lasciamo perdere tutto l'insegnamento della Chiesa non cito altro ma per esempio quello che ha detto il Papa prima Firenze il Papa attuale Papa Francesco si potrebbero citare quelli prima ma adesso per carità ma Papa Francesco a Cesena che è l'ultimo intervento che ha fatto quello del balcone lì dice delle cose sul bene comune che sono interessantissime bisogna fare una scuola solo su quella chiave che è una chiave particolare che riattualizza quello che hanno detto nel 19 perché la minestra è sempre quella mi pare senatrice Filo Chiaro della sua regione perché le cose buone se no la Sicilia è sempre bistrattata bene e il secondo complimento che prendo nel giro sulla quale regione io li prenderei tutti e li porterei a casa allora a questo punto abbiamo messo come dire a fuoco un soggetto che avrebbe dovuto farsi carico di questo impegnativo programma molto impegnativo programma quindi alcune diciamo un momento di preparazione della squadra io lo definisco soggetto e a questo punto abbiamo incominciato a diciamo così a lavorare prima ci siamo preparati e poi siamo scesi in campo allora adesso io qui sempre con la rapidità che il tempo richiede vi dico alcune cose che sono secondo me attuali quindi io ve le dico in chiave di racconto brevemente però sono attualizzabili probabilmente vanno riviste allora innanzitutto i capisaldi la regione Lombardia in questi anni sto raccontando dal 95 al 2010 perché questi sono stati gli anni forti diciamo 95 2005 10 anni per mettere radici e per fare per consentire i 5 anni successivi di 5 10 per realizzare questo è il percorso ahimè se si fosse cessato tutto come avremmo dovuto ma ancora una volta io chissà perché venivamo sempre messi in minoranza non ho mai capito questa la democrazia ha qualche difetto che se si fosse probabilmente ci saremmo risparmiati tante cose che sarebbe stato meglio va bene allora la regione Lombardia ha in questi anni costruito un sistema relazionale organico nel quale istituzioni autonomie funzionali e governo sta per governo regionale che allora veniva chiamato così si confrontano e cooperano per raggiungere i medesimi obiettivi attraverso la condivisione di specifici impegni secondo le responsabilità e le competenze di ciascuno mi sembra riecheggiare quel po' che ho sentito sono purtroppo arrivato un pochino in ritardo stamattina e sono state istituite degli strumenti allora la conferenza regionale delle autonomie lombarde che era una sede permanente di confronto poi il patto per lo sviluppo quindi autonomie lombarde immaginate sono i comuni e le province allora le province avevano una pienessa adesso non si capisce perché vabbè lasciamo perdere poi c'erano altri strumenti il patto per lo sviluppo altra modalità impegnava la regione e tutti i soggetti del partenariato economico sociale della regione tutti quelli più importanti quindi organizzazioni economiche sindacali sociali eccetera eccetera a cooperare e agire sinergicamente poi il comitato strategico competitività e comitato del welfare per la individuazione di strategie grazie al confronto con le personalità più rilevanti del mondo economico sociale e accademico quindi c'erano questi tre momenti che sono stati costruiti nel tempo permanenti in cui questa benedetta sussidiarietà cioè un ascolto vero reale su tutti i punti cardine del programma in base a quei tre principi che vi ho detto all'inizio questa era la modalità richiedeva un lavoro micidiale di ascolto per dire un problema come l'area C piuttosto che su base ovviamente regionale non comunale o il problema delle tariffe sui mezzi di trasporto eccetera questi problemi venivano tutti affrontati in queste tre sedi a seconda perché l'ultimo che avevo detto quel comitato strategico quelli erano soprattutto a livello di studio a livello di esigenze della persona quindi problemi sociali eccetera venivano tutti affrontati studiati e quindi quello diventava il serbatoio a cui attinge naturalmente poi attingevano i politici attingevano il consiglio regionale che faceva le leggi regionali eccetera attraverso i partiti attraverso i gruppi attraverso 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 e naturalmente poi ma questo ve lo dirò infine il livello tecnico che cercava di affiancare e trovare le soluzioni perché un conto fare delle scelte poi bisogna tradurle in pratica e quindi bisogna mettere giù tutto quello che serve fino le regioni fanno le delibere fanno i decreti come fa un governo a Roma e quindi fino agli atti attuativi delle decisioni che vengono prese allora primo questo diciamo era diciamo il sistema che alimentava accordo di programma con le camere di commercio è solo un esempio un primo strumento cioè mai fare le cose da solo l'istituzione regionale l'istituzione regionale come dire come principio non si mette a fare le cose da solo perché o coinvolge i comuni o coinvolge le università o coinvolge addirittura con le camere di commercio si fa un accordo di programma per cui le camere di commercio soprattutto nel mondo dell'impresa l'economia tutto lavoro tutto lo si fa lo si matura lo si concepisce ma poi lo si realizza insieme queste sono tutte applicazioni del principio di socialità in funzione del bene comune tra l'altro voi immaginate che tutte queste sedi sono tantissime sedi di rappresentanza politica politica e degli interessi quindi è molto difficile sono meccanismi di una complessità incredibile potete solo un po' immaginare cosa vuol dire come mediare avete visto io non vivo qui vivo a Rimini però qualcosina arriva anche laggiù i bisticci tra il comune di Milano il sindaco e la regione il presidente Fontana sul trattore di un euro e mezzo due euro ecco perché siccome poi le cose cattive di qui arrivano anche da noi noi ci preoccupiamo quindi noi siamo contenti che per ore insomma rimane un e mezzo così anche noi rimane più basso va bene allora adesso vi dico invece velocemente nel merito come fare a realizzare questo principio della scelta in capo al cittadino in capo alla persona cioè la libertà di scelta perché questo era il problema come farsi non che il pubblico decide e statalizza cioè pubblicizza insomma cioè gestisce direttamente cioè come consentire che nei servizi più importanti la diciamo la capacità di elaborare le risposte fosse una capacità pluralistica a quali condizioni allora ci siamo inventati ci abbiamo messo un po' di tempo poi è una fatica terribile anche farla il sistema della dote l'abbiamo chiamata così diciamo ha avuto molto successo non moltissimo perché è complicato forse non è stato neanche spiegato bene non so per tante ragioni però questo era però qui c'è c'è perché se no sta sussidiariettando a qualche parte poi bisogna farla perché soltanto accitarla non funziona allora abbiamo fatto così abbiamo preso il sistema di istruzione formazione professionale e mercato del lavoro abbiamo diciamo abbiamo cercato di fare in modo che la libertà di scelta potesse accadere tra il servizio svolto dal pubblico e lo stesso servizio svolto dal privato ci sono due leggi regionali quindi sono state fatte e sono tuttora vigenti forse le hanno un po' cambiate non sono informato adesso quella sul mercato del lavoro è la numero 22 leggi regionali numeri piccoletti del 2006 e quella sull'istituzione formazione professionale è la numero 19 del 2007 allora come funziona la dote? questo è importante per una scuola perché qualcuno dice ma non si potrebbe rinverdirla sì che sì è un po' difficile però se volessimo veramente rispettare questi principi qualcosa del genere allora come fu fatta? è semplice a dirlo complicato a farlo non si finanzia più un servizio ma direttamente la persona la persona allora se io ho un handicap ho bisogno eccetera invece di dire vai nella struttura pubblica che lì troverai eccetera io siccome io pubblico spendo 100 ti do un voucher di 100 ti do l'elenco di tutti i posti pubblico e privato dopo questo viene fuori dopo e tu scegli dove andare tu vai scegli sei contento se non sei contento cambi e poi paghi col voucher il gestore viene da me e io gli do 100 questa è la dote semplice no? organizzarlo è un po' più complicato quindi però non si finanzia più il servizio ma la persona che quindi si gioca il suo voucher non si pianifica più l'offerta dei servizi perché i servizi è liberamente questa questa offerta definita dai soggetti erogatori quindi noi abbiamo fatto il cessimento di tutti i possibili erogatori di tutti i possibili servizi di tutte le province di questa bella regione e ognuno ha fatto l'elenco dei servizi che offriva e noi li abbiamo tutti convenzionati è chiaro che cambia il ruolo della regione in questo modo che la regione non gestiva assolutamente più nulla però gestiva tutta questa complessità cioè nel senso che dovevamo definire gli standard minimi di erogazione del servizio quindi nell'elenco dei servizi ogni servizio andava descritto con gli standard minimo e poi con tutte le variazioni e questo si chiama accreditamento perché questo avveniva dopo che veniva l'erogatore veniva accreditato accreditare vuol dire passaggio di una serie di adempimenti di varia natura per cui io ti riconosco la possibilità di erogare quei servizi accreditamento e poi la valutazione dei risultati perché io l'accreditamento te lo verifico tutti gli anni in base ai risultati risultati sia da ispezioni da visite ma soprattutto dagli utenti perché nel momento in cui gli utenti calavano verso un erogatore non ci andavano più evidentemente segnale rosso andiamo a vedere perché non ci vanno perché magari entrano zoppi e escono anche cechi quindi evidentemente ritiriamo l'accreditamento questa è la dota naturalmente questo è stato applicato nella scuola ricordate il famoso buono scuola che arrivava alla famiglia il primo anno addirittura il presidente Formigone è un bravo uomo però quella volta avevano detto di non mandare i soldi invece ci fece mandare i soldi è una cosa complicatissima non mi dico eccetera naturalmente un po' di soldi qualche postino intelligente eccetera quindi avevamo anche dei problemi insomma che alcune famiglie non arrivavano perché evidentemente qualcuno li aveva bloccati da qualche parte ma al di là di queste cose un po' di coreografiche questo era la dote che nel caso dell'istruzione diventava il buono scuola non dico altro perché ne ho detto abbastanza dico solo ma questo ancora più breve sulla sanità perché sulla sanità è stato fatto un lavoro molto più complicato sempre per attuare questi principi dice ma queste cose le avete solo dette no signori le abbiamo fatte le abbiamo fatte le abbiamo fatte dopodiché più o meno bene tra l'altro non lo so molte di queste permangono anche oggi allora io penso così alla buona se erano tutte cose da buttare via diavolo noi abbiamo smesso nel 2013 sono già passati tutti questi anni allora o sono minchioni da noi si dice questa parola da voi non so come si dice da noi se ne dice un'altra che è l'equivalente di Pile ma è meglio non dirla allora sulla sanità la sanità abbiamo creato un sistema regionale qui c'entra un po' di economia di quasi mercato in cui l'offerta di servizi viene fatta da soggetti pubblici e da soggetti privati accreditati voi siete di qua lo sapete no? se no non ci sarebbero stati IEO Monzino Humanitas Sandonato come si chiama Calatres non mi ricordo più tutti quelli religiosi che sono una caterva storici no no questi allora di qui sono scaturite scelti strutturali organizzative aziendalizzazione del sistema sanitario ma questo valeva anche per tutta l'Italia perché è una legge nazionale non dico niente invece da noi qui in regione tuttora vigente questo parificazione come reguatori tra strutture private e aziende pubbliche quindi facoltà di libera scelta del cittadino se io sono lombardo e decido di andarmi a curare al Niguarda vado al Niguarda se mi piace andare all'Humanitas vado all'Humanitas e ho lo stesso identico trattamento non devo chiedere il permesso a nessuno salvo i tempi eccetera ma quello non c'entra niente e la separazione tra chi fornisce la prestazione e chi acquista ma non dico altro perché il mio tempo mi pare che sia finito allora mi fermo qui ultima cosa dove sta come abbiamo fatto a realizzare questo perché è stato fatto questo sistema è ancora vigente con un accomodamento adesso l'hanno un po' adesso qualche amico qui presente che sa anche le modifiche io le so presso poco perché dal 2013 non sono più qua a fare questo lavoro allora la novità è stata una eccezionale novità il pieno raccordo tra politici amministratori e dirigenti questa è stata la chiave altrimenti era impossibile fare questo con tutte le premesse che ho detto prima ovviamente quindi e qui c'è il patto all'inizio che è stato sempre tenuto vivo perché perché senza questa piena intesa tra la parte politica che ha inteso programmare e quindi attuare e la parte diciamo della dirigenza dei funzionari che dovevano realizzare grazie a questo patto a questa forte intesa ognuno rispettando le competenze è stato possibile farlo quindi rispetto e valorizzazione delle competenze nessun pregiudizio rispetto alle posizioni politiche o religiose o di altro tipo io siccome sono stato a capo della struttura dirigenziale io ho sempre rispettato cioè assolutamente e di qui è stato possibile perché è chiaro che dentro un mostro così i dirigenti quando sono arrivato erano più di 500 dopo li abbiamo un po' diminuiti perché insomma meglio essere un po' snelli io quando sono arrivato erano 538 e 5.000 e dico mamma mia solo per conoscere ci vuole una vita qui rispetto rispetto e il criterio era il coinvolgimento sulle scelte questo sì ma è difficile anche uno che magari della dottrina sociale della chiesa sa poco però sulla scelta a favore della famiglia della persona ci intendiamo anche se magari viene da una posizione culturale un po' distante coinvolgimento di tutti e adesso qualcuno qua si mette a ride abbiamo anche inventato un sistema di lavoro perché nel pubblico per fare quelle cose lì ci vuole un coinvolgimento forte forte abbiamo inventato un modo di lavorare che adesso mi pare che sia stato un po' abbandonato che si chiamava delle 7c bene finale tutto bene tutto no con fatica perché queste cose sono molto impegnative però è un tentativo storico che bisognerebbe da qualche parte qualcuno magari potrebbe anche divertire un po' registrarle nel senso di capire bene come sono state fatte anche perché alcuni di questi principi poi lasciamo stare i commenti io non ho fatto non è il mio lavoro perché anche in questi giorni scrivendo si leggono delle cose che sono assolutamente assurde mostruose cioè planetarie ok fake news ok noi abbiamo fatto tutto bene ma no errori tanti carenze tate inadeguatezza però su tutto il desiderio di concorrere a costruire un pezzo di bene comune di bene per tutti i cittadini questo è sempre stato diciamo la stella di orientamento ringrazio Nicola Sanese per la carrellata e la precisione con cui ha individuato come dire le modalità di lavoro che l'hanno visto protagonista anche proprio personalmente per una buona parte della sua diciamo appunto vita professionale diciamo così e mi piace sottolineare una cosa che ho sentito e che ho rilevato come dire sia nella come dire nella identificazione del programma sia nella costruzione delle condizioni sia nell'attuazione pratica che è quella di fare le cose insieme agli altri di condividerle di farle uscire più preoccupati di costruire le condizioni perché queste cose funzionassero che di affermare la possibilità di annunciare o fare subito qualcosa in opposizione o contro ad altri soggetti con cui erano chiamati a gestire questa responsabilità questo mi sembra una nota come dire di metodo che Nicola ha sottolineato con grande attenzione che oggi spaventa spaventa per la fatica che richiede ma che nella passione con cui l'ha raccontato fa capire che è in realtà il modo per gustarsi di più anche in un'esperienza personale il lavoro a cui si è chiamati nessuna paura della fatica nessuna paura della complessità nessuna paura di fare le cose insieme agli altri negoziandole con gli altri costruendole insieme questo mi sembra di poter dire un insegnamento molto interessante in termini anche proprio moderni di oggi passo la parola a cambiamo mondo cambiamo regioni cambiamo completamente diciamo film a Gigi De Palo chiamatelo pure Gigi sposato con cinque figli giornalista scrittore già presidente delle Acli della provincia di Roma dal 2005 poi è stato assessore a Roma Capitale assessore alla famiglia scuola e giovani di Roma Capitale con sindaco Alemanno esatto dal 2015 invece è presidente del forum delle associazioni familiari quindi ha un impegno che tuttora lo vede impegnato oltre che come papà di una figlia che peraltro vediamo là in fondo molto attenta a quello che succede a versi di affari suoi l'ha visto impegnato attivamente e direttamente in politica ma è un impegno che non ha mai smesso e che oggi svolge prevalentemente in uno di quelli che abbiamo più volte evocato diciamo un corpo intermedio un'associazione eccetera eccetera con cui fa diciamo così politica noi gli chiediamo di raccontare proprio la sua esperienza le cose che ritiene più utili come sua esperienza personale della sua vita rispetto al tema che abbiamo proposto grazie 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 dell'invito io un po' come il dottor Sanese non ho mai desiderato perché non era mai stata una mia così non avevo questa ambizione di impegnarmi dal punto di vista politico poi come spesso capita ti viene chiesto no ma perché ma perché non tu e cosa si e quindi poi dice vabbè se proprio devo e lo fai l'ho fatto la mia vita diciamo in questo senso è cambiata l'11 di gennaio visto che le date sono precise no del 2011 perché io ero presidente delle acri di Roma ero presidente del CAF del patronato delle acri di Roma presidente del forum delle famiglie del Lazio mi occupavo di anziani di giovani di immigrati di famiglie avevo diciamo oltre al mio lavoro oltre a tre figli all'epoca tre forse quattro già ero felice perché comunque facevo il mio non era una vita espanata che girava a vuoto ma riuscivo a fare le cose belle e quindi mi sentivo pienamente diciamo nel mio ecco mi è arrivata una telefonata di un sindaco che io non avevo votato perché io all'epoca avevo votato Rutelli diciamo c'era stato il ballottaggio Rutelli alle mani avevo votato Rutelli che mi dice guarda ho azzerato la giunta mi serve un assessore tecnico alla scuola alla famiglia ai giovani e io gli ho detto ma io sono stato pure bocciato due anni al liceo classico Socrati diciamo che la Fedeli non ha inventato nulla fondamentalmente l'ho anticipata di gran lunga ecco al che sono tornato a casa molto così molto tramortito in questo perché comunque mi ero sistemato la vita e me l'ero organizzata in maniera molto diversa rispetto a poi come è andata e come l'avevo immaginata ho parlato con mia moglie Anna Chiara abbiamo fatto noi siamo cintura nera di catechismo quindi abbiamo fatto un rosario di quelli molto pesanti di quelli che non so se ci avete presente quando tu preghi e ti rimane la vernice sulle mani ecco perché studi perché hai l'ansia e ho risposto di no ho detto no non me la sento di fare l'assessore perché perché sì è vero è appetibile sono giovane è una cosa la prospettiva le cose è una bella però mi sono organizzato ho tre figli è complicato avevo appena avviato delle cose importanti con le agli di Roma quindi non me la sentivo come spesso capita poi arrivano sollecitazioni da altre parti nel mio caso è arrivata le associazioni mi ha chiamato il cardinale ma fallo ma non fallo ma se non lo fa tu chi non lo fa sono andato ho detto guarda sinceramente non me la sento se vuoi ti do una mano a trovare dei nomi alternativi ci siamo messi là ho dato una serie di nomi mi sono fatto dire chi avrebbe chiamato al posto mio e poi ho accettato perché ho visto l'elenco ho detto vabbè ho capito allora tutto questo per dire che cosa per dire che la fatica più grande che io ho vissuto per quanto riguarda il tema del bene comune lo sapete qual è sono gli occhi delle persone che vedo anche qui in alcuni casi che ti guardano e ti giudicano sul nulla ti giudicano per due battute ti giudicano per come sei vestito ti giudicano per le scelte che hai fatto io una volta che ho fatto quella scelta sono diventato un appestato per gran parte del mio mondo sono diventato un appestato per le associazioni con le quali avevo sempre collaborato sono diventato una sorta di persona da non dico perseguitare ma quasi allora il vero problema e lo dico in una scuola di formazione perché poi queste cose non sono secondarie perché uno si immagina ah vabbè la politica faccio no la politica è complicata proprio perché in questo paese noi abbiamo una divisione un blocco mentale che ci impedisce di ragionare in maniera seria e matura noi ancora siamo divisi in Guelfi e Ghibellini io dico forza Roma forza Lazio vista la mia provenienza qua potrei dire forza Inter forza Milan quello che volete ma la logica è la stessa non si riesce a ragionare su temi in maniera matura non si riesce a fare ragionamenti seri e il bene comune purtroppo ne risente molto perché il bene comune non è la somma degli interessi particolari noi abbiamo questa logica se voi vedete qualsiasi legge di stabilità oggi legge di ormai di bilancio si chiama se voi vedete sono un elenco di concessioni allora faccio l'esempio concreto quota 100 più reddito di cittadinanza più due spicci per le imprese più il bonus di qua più il bonus di là uguale il bene comune no purtroppo non è così il bene comune è qualcosa che va oltre non è la somma è un qualcosa diciamo è una piccola rinuncia per qualcosa di più grande prima ne parlavano sentivo la vice sindaco ne parlava no con così spiegandolo molto bene proprio dal punto di vista di un amministratore che è costretto a prendere delle decisioni che tante volte purtroppo non sono minimamente comprese anche dei cittadini e in più si parla tante volte ormai è trito e ritrito tutti quanti parlano di bene comune se ne riempiono la bocca si parla spesso anche di beni comuni ecco il bene comune non sono i beni comuni il bene comune è una cosa molto seria non voglio entrare in diatribe legate a privatizzazioni cose però il bene comune paradossalmente ha a che fare e ha a cuore il cittadino l'ultimo faccio un esempio sul tema della dote quando ero assessore al comune di Roma mi sono trovato a gestire gli asili nido situazione complicatissima perché all'epoca ancora c'era qualche bambino adesso ormai diciamo il problema è risolto perché non facciamo più figli abbiamo trovato soluzioni molto più semplici perché prima non c'erano i posti poi non c'erano i bambini e quindi adesso abbiamo il problema di dove mandare le educatrici degli asili nido che sono state assunte perché sono di uniti i bambini e mi trovavo a vedere che un bambino in un asilo nido comunale di Roma costa grossomodo all'amministrazione costava 1500 euro ora voi capite che 1500 euro non è sostenibile il comune di Roma spendeva al mese il comune di Roma spendeva per asilo nido e scuole dell'infanzia una cifra come 850 milioni di euro però avevamo i cittadini arrabbiati le educatrici incavolate perché comunque venivano non erano queste le condizioni di lavorare nel miglior modo possibile le amministrazioni che si susseguivano non c'erano posti allora tu capisci che la logica non può essere la stessa bisogna invertire bisogna rompere lo schema non si può continuare a fare tutti scontenti quando tu investi quelle cifre allora avevamo immaginato una situazione simile cioè invece di dare invece di pensare al posto per l'asilo nido in funzione degli educatori che devono lavorare abbiamo pensato di metterci e di calcolare di ragionare in termini di bene comune per quanto riguardava il beneficiario ovvero le famiglie con i bambini le famiglie non si rendevano conto che il comune investiva su di loro 1500 euro al mese sul loro figlio e se il comune se le famiglie non si rendono conto di questo c'è un problema perché tu stai mettendo tante energie tante risorse la famiglia non se ne rende conto e ti viene là sotto a fare le manifestazioni allora avevo ideato abbassando addirittura non 1500 un sistema similare diciamo a quello della dote se vogliamo che era diamo delle risorse alle famiglie sceglieranno loro se andare all'asilo nido comunale all'asilo nido convenzionato se tenere i bambini a casa perché magari i primi tre anni di vita tante volte una mamma se avessero opportunità di vivere dignitosamente magari riuscirebbe a rimanere a casa se pagare una babysitter se trovare qualsivoglia soluzione non ci siamo riusciti perché uno perché il tempo era poco e il tempo è stato detto e questo ce lo dobbiamo dire il bene comune e il tempo vanno di conseguenza altrimenti facciamo bonus che non portano a nessuna parte il secondo motivo era perché nessuno degli attori all'interno di quella situazione ovvero famiglie sindacati educatrici nidi convenzionati era disposto a fare un salto di qualità a rinunciare il suo piccolo interesse in funzione del bene di tutti allora è questo quello che noi dobbiamo cercare come ragionamento cioè molte volte io mi rendo conto che pensiamo e ragioniamo in termini di bene comune cercando sempre la ricerca di un capo espiatorio è colpa dei sindacati è colpa dell'educatrice è colpa delle famiglie è colpa è colpa è colpa e noi siamo un paese che mi spiace dirlo io sono lo dico con sincerità io sono molto pessimista rispetto all'Italia e ho cinque figli e se sono pessimista io con cinque figli mi permetto di dire che non va benissimo perché io che ho gli occhi della tigre perché con cinque figli devi per forza avere gli occhi della tigre per vivere la quotidianità perché per cinque figli tu devi pensare al loro futuro e quindi anche la differenziata non è la faccio perché me lo dice il comune no ma la faccio perché è un atto d'amore per i miei figli perché sono sono critico perché io vedo che noi le analisi le conosciamo da trent'anni ho dentro la mia borsa degli articoli di giornale del 1987 che parlavano della crisi demografica che noi oggi stiamo vivendo e ne parlavano in termini ansiogeni dopo trent'anni noi stiamo vivendo questa crisi demografica la situazione è ancora peggiore di quella che c'è stata prospettata a suo tempo ma molto peggiore e non ci rendiamo conto di nulla stiamo così commentiamo i datistat parlo di tutti non parlo solo della politica commentiamo i datistat ma l'abbiamo capito che a proposito di sanità se non si fanno figli non ci sarà più la sanità gratuita come ce l'abbiamo oggi indipendentemente dalla Lombardia cioè questo è chiaro e questo accadrà in un paese dove nel 2035 ci saranno molti ma molti ma molti più anziani di quanti ci sono oggi e che le famiglie non potranno più fare da ammortizzatori sociali come fanno oggi e quindi ci avremo un paese che sarà un grandissimo ospizio con una sanità a pagamento guardate che io non voglio dire che è la guerra civile ma la prospettiva è ansiogena o uno prende e se ne va all'estero come sta accadendo anche gli anziani anche i pensionati oppure la situazione è tremenda per questo al di là dell'analisi bisogna un attimino fare il salto qualità relativamente al tema della sintesi per questo io credo che il bene comune non possa prescindere da forza di qua forza di là ma è giunto il momento in cui ci dobbiamo mettere attorno a un tavolo a ragionare a guardarsi negli occhi a dire vabbè ok però ci sono delle cose dove si può lavorare in maniera chiara io però per aver fatto l'assessore con le mani sono stato perseguitato è una cosa folle io ve lo dico con grande sincerità anche perché oggi sono presidente del forum da una parte mi attaccano quelli di destra perché dicono che io sono il presidente del forum comunista dall'altra mi attaccano quelli di destra perché io sono amici io ho cinque figli e la mia urgenza è fare in modo che i miei figli non li possa vedere solo su skype perché un paese che accetta il fatto che un figlio qualunque esso sia debba andare all'estero non per migliorare la sua vita e per le sue conoscenze viva Dio questo ma per necessità è folle un paese un paese in cui un bambino costa dai 0 ai 18 anni 172 mila euro a una famiglia un paese dove la seconda causa di povertà è mettere al mondo un figlio la seconda la prima la perdita del lavoro del capo famiglia un paese dove le mamme sono costrette a nascondere il pancione perché altrimenti vengono licenziate è un paese destinato a non andare da nessuna parte per questo dico che bisogna andare oltre le fazioni io ho compreso cosa fosse il bene comune una volta a 16 anni io lavoravo la mattina in un'edicola scaricavo i giornali per averci qualche soldo poi andavo a scuola e poi diciamo facevo le mie attività associative quella notte quella notte ero uscito e ero andato a mangiare la pizza con gli amici 16 anni tornavo col mio motorino un sì vecchi motorini ed ero stremato perché mi ero svegliato alle 5 ho fatto tutte le cose e stavo tornando a casa avevo proprio l'ansia avevo un sonno incredibile dico no devo tornare a casa non vedo la desdraia mi già pensavo nella testa dico no mi metto sdraiato sul letto ma addormento ho 4 ore di sonno perché comunque è tardi poi mi devo rialzare per i giornali così metto la chiave nel portone apro la porta apro la porta il portoncino chiamo l'ascensore l'ascensore non c'era porca paletta guardo e l'ascensore era al settimo piano perché si vede il contropeso quindi tu riesci a capire dove si vede io abito al terzo e inizio a salire un piano due piani e già lì inizio a preparare le chiavi mi vedo andando a letto mi vedo andando a letto metto le chiavi da toppa apro la porta guardo l'ascensore e penso a chi? a Teresina che è una vecchietta che ancora c'è nel quartiere che abita al sesto piano e che il giorno dopo sarebbe andata prima di tutti perché lei va ammessa prima di tutti e si è via l'ascensore l'ho fatto ho chiuso la porta sono salito al settimo piano a quel punto sono sceso con l'ascensore sono lo scemo sono sceso con l'ascensore allora lì ho capito cos'è il bene comune il bene comune è silenzioso il bene comune non è ho fatto questo te lo metto sul social il bene comune è lavorare silenziosamente incontrando le persone perché se io facessi le mie dichiarazioni da presidente del forum o se a livello politico al di là delle uscite che tante volte vengono fatte di natura diciamo più mediatica non ci fosse poi l'incontro tra le persone che se guardano se confrontano e se mettono attorno a un tavolo non si va da nessuna parte sono stato anche consigliere al comune di Roma c'erano dei progetti che facevano schifo premetto io sono attaccato da quelli diciamo quel mondo cattolico fissato family de cose si mi attaccano perché sono troppo morbido non sono troppo morbido io sono una persona molto concreta c'erano progetti molto negativi sul tema andavano a parlare i bambini degli asili nido asilo nido quindi non come si fa un bambino bambino asilo nido al che ho detto scusate ma insieme a me c'era nel consiglio comunale Imma Battaglia che è diciamo carissima amica mia lo dico con sincerità e che è una esponente del mondo LGBT una lesbica sono andato da Imma e le ho detto Imma togliamo le situazioni così ma è possibile tu conoscendoti ci conosciamo andiamo d'accordo su centomila cose ma ti sembra normale che vanno a rompere le scatole i ragazzini le educatrici degli asili nido no è uno scandalo dico guarda pure per me facciamo insieme io cintura nera di catechismo e te lesbica e mondo LGBT una delibera insieme ci siamo visti a casa mia mia moglie faceva la pasta asciutta faceva la carbonara a Roma altronde questo è ci siamo trovati con alcune famiglie del mondo LGBT con alcune famiglie diciamo di area cattolica e ci siamo confrontati è stato complicatissimo ma bellissimo posto che ciascuno aveva la sua visione molto diversa perché c'erano persone vicine a me che conosco Andrea che hanno fatto figli in maniera che a mio modo di vedere non è concepibile andando all'estero utili in affitto e così per me lo dico in maniera proprio semplice io ho detto pure a loro quindi lo posso pure riba di qua per me non esiste perché è uno sfruttamento della donna e se facciamo i salti mortali per far allattare un bambino al seno poi io togli il seno cioè meglio il latte artificiale piuttosto che toglie il seno a un bambino ma questa è un'altra vai di mani e quindi queste cose ce le siamo dette all'inizio le regole di ingaggio erano chiare ci siamo confrontati abbiamo faticato che voi non avete idea quanto non avete idea quanto e alla fine abbiamo fatto questa delibera insieme non è stata mai fatta presentata perché poi è crollato diciamo marino e quindi è finito diciamo per questo motivo ma la fatica di vedersi di vedersi due sere e confrontarsi e ragionare mettendo al primo posto il bene comune che erano i bambini non era l'interesse particolare del gruppo di imma della mia lista civica piuttosto che delle educatrici no il bene comune era i bambini allora ci siamo resi conto che era possibile ed è sempre possibile al netto del dover dire per forza qualcosa che passi che venga pubblicizzato sui social che venga pubblicizzato in assoluto poi dopo uno può pubblicizzare quello che vuole ma prima ci deve essere l'incontro con le persone e dico perché voi siete qui immagino perché voi abbiate sete, fame, desiderio di bene comune perché siete in una fase di fermento perché volete dare il vostro contributo ottimo ottimo come Gotham ha bisogno di eroi silenziosi cioè il film è stupendo vi invito a vederlo perché parla proprio del capro espiatorio anche nella politica Christopher Nolan il film Batman dice vabbè Batman no no Christopher Nolan fa filmoni e Batman di Christopher Nolan è un signor film come Gotham ha bisogno di Batman le nostre città hanno bisogno di eroi silenziosi hanno bisogno di gente che non faccia cose così trasformi il bene comune in concetti ideologici e lo pubblicizzi e pubblicizzi tutte quelle cose che fa leggevo su Twitter che recentemente un anno fa però Gasman lo ricordate no il figlio di Gasman ha fatto una campagna su Twitter pulisciti la via sotto casa anche tu per il bene comune quindi dava l'esempio facendo queste cose io dico vuoi lavorare per il bene comune non serve che tu pulisca la via sotto casa non serve che tu vada in Africa o in Sri Lanka con la cooperazione personale quello è tutto buono non fate di che non serve tutto ottimo tutto stupendo la Caritas stupendo fatelo e facciamolo è la cosa più importante è anche bello questo ma per realizzare concretamente il bene comune serve una sola cosa sei un funzionario pubblico fai bene quello che devi fare non con la mano sinistra tu devi capire che dietro un cavolo di timbro che tu apponi su un foglio c'è la storia di una famiglia c'è la possibilità di due persone di sposarsi c'è la possibilità di qualcuno di avere un mutuo che poi gli permette di avere una serie di risposte sei un professore universitario non lo fare con la mano sinistra fallo con gli occhi della chile mettici tutto te stesso fallo credendoci pienamente perché se tu lo fai bene cambia la storia io sono frutto di un professore che mi ha spiegato e mi ha raccontato l'infinito di Leopardi con talmente tanta passione che invece di farmi le canne in un periodo in cui ero molto diciamo un'adolescenza un po' turbolenta andavo a scrivere le poesie al giardino degli aranci io sono frutto di un padre e una madre che non si sono rassegnati a dire vabbè dai togli sto coso ma che si sono spesi in prima persona sei un professore e dai tutto te stesso sei un medico non ti limitare nonostante rischi tante ormai c'è una medicina c'è una medicina difensiva che ti dice no fai mille cose perché c'è la paura a fare una diagnosi a dare a dare delle risposte no mettici tutto te stesso perché in quei dieci minuti in cui tu vedi una persona anche solo per come gli dici quello che c'ha puoi creare un depresso o una persona che combatte con un tumore con tutto se stesso allora il bene comune è qualcosa che ha a che fare molto più con le nostre vite indipendentemente dal fatto che ci siamo candidati non ci siamo candidati ma ha a che fare con tutti non c'è nessuno che è esente tutti quanti siamo chiamati a farlo serve la formazione? sicuramente ma io dico che serve prima di tutta un'altra cosa serve un'opzione fondamentale che ciascuno di noi deve fare prima della formazione prima di tutto che è dare la vita io faccio il presidente del forum oggi sto qua domani sto a ieri stavo a Seveso poi starò a Teramo giro come una trottola lo sapete perché? perché e concludo c'è un momento nella mia giornata che è quello più bello grosso modo io verso le 8 di sera torno a casa metto la chiave nella toppa apro la porta e mi arrivano i bambini papà 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 e quindi incontro tutti i bambini Giovanni è quello molto preciso è il primo figlio sembra mio padre con il teso il figlio preciso ho preso 10 ho preso 8 ho fatto qua ho fatto basket mi racconta le sue cose poi c'è Terese quella lì che non so ecco sente però molto precisa come mia moglie e a seconda di come entro a casa già ho sbagliato no? perché è un po' così tant'è che io dico quando entro a casa dico senti Terese scusa 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 dice perché dico tanto tre cazzate le faccio quindi mi avvantaggio tanto è un po' così poi c'è Gabriele c'è Maddalena tutta particolare c'è Gabriele c'è Giorgio Maria l'ultimo nato è nato 11 mesi fa con la sindrome di Down ancora sembra buono anche se tutte le volte che mi dicono guarda siete fortunati i bimbi con la sindrome sono tutti buoni ti è avviata la pace in casa è una grande grazia portano pace tutte le volte io dicono io temo dico ma vuoi vedere che per il calcolo delle probabilità quello no perché alla fine c'è questo rischio ma sono tutti buoni tutti tutti e quindi diciamo però al momento sembra buono torno a casa mangiamo sparecchiamo le solite cose e poi andiamo nel lettone con i figli ci mettiamo lì sotto facciamo il gioco fuori pioce la neve tutte queste cose chiamiamo mia moglie che alla fine ha finito di sistemare la lavastoviglie perché solitamente c'è un coltello che io ho sbagliato a mettere una volta e ancora questa cosa mi viene fatta pesare quindi lei sistema tutto e viene e io stiamo sotto le coperte usciamo fuori facciamo buh Anna Chiara fa finta di spaventarsi e viene anche lei nel lettone quando viene anche lei nel lettone ci raccontiamo le cose belle della giornata le cose che abbiamo fatto ci abbracciamo ci vogliamo bene è il momento in cui facciamo squadra in famiglia in cui stiamo insieme se mi chiedessero Gigi De Paolo per te che cos'è il paradiso io dico quello cioè io me lo immagino così là sotto chiuso il lettone ognuno ha la sua immagine no per carità per me questa è una cosa molto bella se io oggi sto qua e non sto a casa con un bambino che ha 40 e mezzo e sta facendo la diarrea come se quello piccolo e altri figli e me ne porto uno di qua uno di là se domani parto teramo se abbiamo girato come trotto e continuo a girare con il forum delle famiglie come trottole e anche ormai tutti questi percorsi no c'è un fermento percorsi non è perché c'ho tempo da perdere cioè io non c'ho tempo da perdere non non è perché mi fa piacere no no io sto qua perché ritengo più importante stare qui con voi adesso piuttosto che stare ed è il paradosso questo a casa mia con la mia famiglia questo è il paradosso io sto qui perché ho capito che la mia vita me la gioco su queste cose perché le esperienze che ho fatto mi hanno portato a dire che questa è la mia missione cioè rompere le scatole raccontare queste cose far capire far passare alcuni temi ci provo perché perché io mi sento debitore allora io dico che il bene comune nasce dalla conservazione senza di sentirsi in debito se tu stai qua e non stai fuori è vero che fa freddo e non c'è il sole però molto probabilmente è perché senti dentro di te che devi ridare qualcosa che hai ricevuto perché se no non staresti qua magari qualcuno ce l'avete portato a forza non lo so ma se state qua è perché sentite dentro che dovete ridare qualcosa ecco apposta di no lo so che non è così allora appunto anche pagando allora ecco io immagino e vi invito veramente a riflettere sul fatto che al di là poi della concretizzazione ci deve essere un'opzione fondamentale che è ma io la mia vita la do o non la do perché sono qua mi voglio giocare veramente in prima persona perché mi sento in debito e sento di dover ridare qualcosa oppure vengo perché non si sa mai ecco io auspico ma vedendovi ho questa sensazione che voi lo facciate perché ci crediate grazie grazie a Gigi De Palo che ci ha raccontato come il bene comune non è innanzitutto una cosa in più che si fa ma al massimo è una rinuncia a qualche cosa e perché ci ha testimoniato come l'orizzonte è innanzitutto la vita di ciascuno che si implica in questo e la convenienza è mentre lo si fa ancora prima che sugli esiti che questa iniziativa qualunque essa sia porta abbiamo tempo per due domande due se ci sono una qua buongiorno sono Mattia Marino uno studente del Politecnico di Milano di formazione classica si è parlato di bene comune di diciamo valori di nobiltà sociale e intellettuale che però e arriva al punto della domanda probabilmente poco si sposano con il consenso un drive nell'opera di marketing che viene fatta in una politica di intrattenimento e di distrazione quindi c'è il sovvertimento di questo trend che dovrebbe provenire dall'educazione e quindi da un maggiore investimento che non si è fatto negli ultimi anni nell'educazione porta a capire che forse cioè forse abbiamo abbandonato questi valori e ci piace più parlarne che perseguirli cioè che sono non sono più forse nel 2019 concretamente perseguibili ok grazie alcun altro? allora teniamo questo e poi concludiamo Gigi vuoi iniziare a rispondere tu? come? aspetta aspetta tu concludi una bellissima domanda che è un mio pallino nel senso che in tutti questi anni parlo no? anche nel mio caso quando sono diventato assessore è perché serviva il santino nel mio caso associativo cattolico cose simili all'interno di un'aggiunta consenso uguale zero se ho capito bene tu domandi alla luce di questo che ci siamo detti il tema del consenso come lo affrontiamo? dammi un cenno la domanda è in realtà cioè che dal punto di vista cioè nell'era di Emilia sì cioè come si può passare un sentimento nobile ma che non è più di moda sì sì però ci aggiungo il tema del consenso cioè nel senso noi qua siamo tutti d'accordo belli ideali cose simili poi là fuori la gente vota seguendo altre logiche io sono convinto di una cosa per esperienza personale perché io dopo che sono stato assessore mi sono candidato al Comune Roma con una lista civica perché? perché volevo sfidare e volevo ragionare proprio sul fatto che al di là dell'essere il santino utilizzato diciamo anche in maniera strumentale potrebbe essere centrodestra centrinista è sempre così dieci giorni dopo Zingaretti ha coinvolto la Presidente dell'Azione Cattolica piuttosto che in un assessorato quindi fa parte delle dinamiche la mia domanda era ma riusciamo a generare consenso sulle cose che ci siamo detti anche adesso? cioè riusciamo a trasformare queste cose anche in voti? in gente che ti scrive nome e cognome perché ci crede? la mia risposta sai qual è? che il consenso è una scienza esatta se tu inizi da oggi nei prossimi cinque anni a risolvere i problemi delle persone che ti stanno intorno ad incontrarle a non avere ferie orari a metterti in gioco a cercare veramente di risolvere i problemi delle persone ad ascoltarle anche facendo di capire che tanti problemi non si possono risolverle io ti assicuro che l'aspetto dei social è un pezzo sicuramente importante ma che quello puoi comunque portarlo avanti anche te è secondario rispetto a quanto tu sei in grado di lavare i piedi non so se è chiaro cioè per radici solide e per qualcosa che ha a che fare e ha una durata nel tempo c'è semplicemente il mettersi a disposizione delle persone concretamente e il diventare un punto di riferimento facevo questo esempio nelle scuole c'era gente che andava nelle scuole a raccogliere firme contro il progetto tal detali contro quello contro quell'altro io dicevo cosa che poi abbiamo fatto invece di raccogliere le firme fuori candidati nel consiglio d'istituto risolvi due problemi le finestre rotte il tetto colamianto automaticamente ti daranno fiducia anche sui progetti e su tante altre cose è così io quando ero consigliere comunale a Roma ho preso tanti voti perché? perché erano 15 anni che mi occupavo come ho detto prima con le agri immigrati anziani bambini risolvevo problemi delle persone le persone venivano io risolvevo problemi oggi che mi sto occupando a livello nazionale del forum se io mi candidassi a Roma anche se è cresciuta la mia diciamo la mia conoscenza e la mia capacità anche di interazione nei social il mio engagement sui singoli perché ho persone che mi seguono e quindi ho una visibilità maggiore rispetto a 5-6 anni fa io non prenderei gli stessi voti che ho preso a Roma perché? perché mi sono occupato di un altro contesto allora io dico che l'aspetto social che è sicuramente importante perché poi va anche raccontato quello che uno fa e va raccontato bene è sicuramente comunque secondario alla risoluzione dei problemi reali che tu hai nei confronti delle persone perché comunque un problema risolto ti porta anche non solo a essere felice perché hai risolto un problema e una persona è felice ma anche in termini di consenso ti aiuta ad essere moltiplicatorio le due cose non ce l'hanno in tanti molti si concentrano solo su una in pochi lo dico e per me è un po' il centro dei corsi di formazione alla politica è che nessuno c'ha voglia di lavare i piedi cioè nessuno c'ha voglia di risolvere i problemi nessuno c'ha voglia di andare a risolvere nelle scuole nei condomini perché? perché il bene comune è faticosissimo è noioso è lento ci vogliono 5-6 anni ma la domanda che pongo è ne vale la pena o non ne vale la pena? io ho 5 figli che tra un po' andranno all'estero per me ne vale la pena anche un progetto di medio-lungo periodo Nicola è ancora attuale questo modo che ci hai raccontato o è passato di moda e vale più lavorare meno? secondo me è attualissimo e infatti anche riallacciandomi a quello che ha detto De Palo vedere qui delle persone che si impegnano si sono iscritte quindi anche con un'adesione consapevole e quindi non spinta non forzata secondo me è un investimento incredibile è chiaro che per maturare per maturare anche una modalità adeguata i tempi sono cambiati ma i bisogni sono gli stessi se uno sta male e ha bisogno di un ospedale quel bisogno è uguale a quello che c'era 30 anni fa cambiando quello che c'è da cambiare anzi oggi magari c'è migliore aspettativa di guarigione allora come si organizza ma i problemi che affronta un ente locale piuttosto che una regione piuttosto che lo Stato sono i problemi della vita sono i problemi di ciascuno di noi quindi che ci siano delle persone che si educano che fanno esperienza e che io insisto su questa parola perché io perché poi sono rimasto e sono stato coinvolto le nostre storie sono molto simili lui ha 5 figli io ne ho 6 e quindi ci sono degli impegni perché bisogna stare dietro non è che poi ci pensa la moglie anche se le nostre mogli perlomeno la mia si è dovuto sacrificare molto io stavo sempre in giro allora è importante fare esperienza di queste cose queste non sono tanto categorie come dire che si studiano ma sono categorie ideologiche o categorie culturali per diventare culturali devono entrare dentro la vita della persona quindi ci sono delle persone che si impegnano approfondiscono chiaro che poi i problemi vanno studiati è difficile dare delle risposte io prima ho ascoltato l'intervento del vice sindaco chiaro quelli sono problemi di una complessità incredibile perché la regione ha una grossa competenza su materia ambientale quindi io mentre lei parlava mi veniva di me io vi ho detto soltanto qualcosa proprio di una corsa veramente fulminea ma ci si occupa di tantissime cose è chiaro che la politica è proprio quella posizione umana che ti fa dare un po' di tempo di intelligenza di passione della tua vita per dare delle risposte che non sono funzionali solo al tuo bisogno o quello dei tuoi prossimi ma a un bisogno che riguarda tutti e questa è l'attività veramente più interessante più esaltante io se è chiaro che se non si fanno più bambini lui dice nel 2035 vabbè io adesso guardo con un po' di distacco queste date così in là è chiaro che c'è quel problema lì ma io sarei molto molto più preoccupato se non c'è nessuno che coltiva la passione per gli altri la politica è sicuramente l'attività in cui la passione per gli altri è all'ennesima potenza ecco se venisse meno del tutto questo io sarei veramente in una posizione drammatica questo mi terrorizzerebbe certo in tutto quello scenario che è stato descritto che ovviamente non contesto allora la risposta è assolutamente sì il problema e questo è fondamentale esperienze come queste e anche un'esperienza similare io torno a dire perché poi mi sono occupato di tante altre cose anche adesso adesso io sono tornato a lavorare nelle aziende e vedo che i problemi sono simili perché anche nelle aziende c'è un livello politico di chi guida dell'imprenditore dei consigli di amministrazione quelle robe lì che fanno le decisioni e quelli che lavorano tutti i giorni che devono fare le cose e quindi c'è un problema anche di rapporti nella politica questo è molto più complicato è complicatissimo non ci sono più i partiti ci sono ci sono i social che allora anche i social facciamoli diventare degli strumenti utili non demonizziamoli cioè nel senso sì insomma come tutti gli strumenti perché i partiti erano tutto buono quindi i partiti avevano un sacco di difetti adesso naturalmente le cose che non ci sono più si parla sempre bene non è proprio sempre tutto perfettamente così allora questo tipo di esperienza è fondamentale bisogna però che abbia dei seguiti cioè delle cose che si ascoltano poi bisogna fare esperienza come si fa a fare esperienza questo è il punto allora come hanno inventato gli stage scuola lavoro non lo so anche qui bisogna fare delle esperienze quindi quelli che si trovano a fare i consiglieri o bisogna fare gli assessori i vice sindaci o altre cose del genere bisogna fare dei gruppetti e seguire perché si deve fare esperienza imparare e poi con chi decide di impegnarsi con della gente insieme io ho sempre fatto così quando ero più giovane qualcuno mi ha trascinato e io ho imparato qualcosa perché anche io sono stato consiglio comunale però i primi interventi era un disastro infatti io dicevo ma non fatemi parlare che ogni volta che parlo perdiamo un po' di voti quindi non va bene dopo ho imparato però per imparare bisogna fare esperienza ci vuole della gente che ti aiuti quindi uno due oltre che all'impegno politico tira su della gente nell'impegno diciamo della pubblica amministrazione della gente che vada a lavorare nella pubblica amministrazione perché se no solo la presenza del politico purtroppo non funziona per cui tante idee anche belle e però poi quando vi ho spiegato prima era bello dire dobbiamo garantire la libertà di scelta sì ho capito noi dicevamo garantitela siete voi politici però poi nelle cose concrete devi essere tu fino al dettaglio non solo la legge ci vuole la delibera ci vuole il decreto ci vuole l'atto attuativo con i cittadini scontenti che vanno a fare ricorso è una cosa complicata ecco allora quindi secondo me ok qui bisogna dare un diploma solo perché loro sono venuti un riconoscimento un'indenità non so reddito di cittadinanza d'onore perché sono venuti alla scuola grazie chiediamo a Gigi Derold giornalista di tirarci le conclusioni non tanto per riassumere la ricchezza che abbiamo detto ma per fissarci in dieci minuti delle idee conclusive con cui ritornare ai nostri pranzi e alle nostre famiglie è impossibile in dieci minuti è anche l'impossibile anche l'impossibile certo la politica è indubbiamente una cosa che diceva il cardinal Montini sanese è la più alta forma di carità ed infatti nel mondo senza politica e nel mondo che si avvale solamente di parole d'ordine e di nient'altro tu hai l'82% dell'incremento della ricchezza che se lo prende l'1% della popolazione mondiale hai esattamente 42 multimiliardari che possiedono la ricchezza di 3,7 miliardi di persone sono dati Oxfam in Italia l'unico dato Censis il 15% ha la stessa ricchezza del 90% ora io credo dato che è vero bisogna farlo innanzitutto il bene comune e probabilmente io sono anche vi dico ammirato delle esperienze che fate voi che ha fatto prima la vice sindaco eccetera di quello che è stato detto ma una situazione come questa ha bisogno di qualche indirizzo per giudicare che cos'è questo bene comune perché rispetto dei diritti individuali bene o male un fatto acquisito dalla rivoluzione gloriosa del 1688 in Inghilterra passando per l'89 francese il 48 eccetera eccetera un meccanismo economico che funziona è una cosa che ha diviso il mondo cioè Khrushchev a un certo punto disse se noi vi supereremo come occidente il comunismo è imploso e Vaclav Havel diceva una cosa molto giusta il capitalismo ha quella che Schumpeter schiamava la distruzione creatrice e quindi sapeva accumulare la ricchezza ma la sapeva distribuire bene il comunismo sapeva solo distribuire e non fare la ricchezza quindi c'è bisogno di avere un punto di riferimento c'è bisogno comunque di una giustizia sociale accettabile perché rispetto alle diseguaglianze sociali che ci sono oggi con 5 milioni di poveri in Italia e 120 milioni di europei in difficoltà nella parte più ricca del mondo è una cosa che fa pensare anche perché il problema della coesione sociale non è una questione economica non è una questione etica è una questione economica io ho parlato con tanti banchieri ne ho avuto uno molto importante che era pure un parente acquisito era il capo di Mediobanca dopo Cuccia la mia nipotina si chiama Maranghi e vedeva le cose e infatti lo fecero fuori per una semplice ragione perché non voleva richiedere la sua banca e quando gli parlavano delle stock option cioè praticamente dei bonus che prendono anche i calciatori di calcio no? lui diceva benissimo siccome bisogna farlo perché l'avete stabilito tutti io le faccio le mie non le prendo e tutti ma perché? perché quando faccio la barba la mattina non mi voglio sputare addosso se prendo le stock option il signor ad esempio Lloyd Blankfield che fu amministratore delegato di Goldman Sachs grandissima banca eccezionale che guai di qualsiasi intervento dello Stato che correga al libero mercato dovrebbe perlomeno adesso restituire 125 miliardi di dollari che gli è andato nel 2008 quando stava andando a carta 48 e dovrebbe riassumere 3.000 persone che ha licenziato da settembre del 2007 a novembre del 2009 quindi questi sono problemi e c'è un problema complessivo che la democrazia forse sarà superata non lo so è oggetto di critiche spaventose guardate è uscito recentemente un libretto di uno dei più grandi filosofi del diritto del secolo scorso Hans Kelsen era un tedesco che ha vissuto Weimar e poi è riuscito a scappare in America dove è morto i due saggi sono uno del 1920 l'altro del 1930 spiega che cos'è vi sembra di leggere la cronaca attuale di tutte le cacchiate che si dicono l'antiparlamentarismo il mandato imperativo la democrazia diretta sono tutte cose che emergono adesso sempre ripetitivamente e sapevamo tutti poi che hai ragione la democrazia non è perfetta cioè la frase di Churchill è famosa si dice solamente la prima parte in genere la democrazia ha dei difetti enormi peccato che non ci sia niente di meglio lui aggiungeva un'altra cosa per la verità non si può trovare nel suo libricino il sorriso del bulldog che sono tutti i suoi aforismi che il peggior nemico della democrazia è parlare a ruota libera con uno degli elettori perché vengono fuori delle cose inaudite concetto che ripeteva un grande studioso come Joseph Schumpeter quando diceva nel suo classico libro capitalismo socialismo e democrazia che in genere se tu parli con una persona dei suoi problemi personali quello è attentissimo sa tutto quando gli parli dei problemi politici vengono fuori di quelle cose che sono da finimondo quindi noi viviamo in una situazione veramente brutta veramente da 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 pensarci perché la sparizione della politica che è l'arte del possibile ed è l'elogio del compromesso a cui bisogna pure abituarsi che spiega che cos'è il compromesso è posporre quello che ci divide a quello che ci unisce solo così funziona la democrazia se uno ha qualcosa di meglio in mente lo faccia se no non fa altro che attaccarla duramente e provocarne degli sconquassi quindi i problemi sono molto complicati e abbastanza molteplici direi ma c'è una cosa che oltre a questo fatto di difesa a mio avviso della democrazia che si deve fare con l'informazione la partecipazione la responsabilità è l'attaccamento al senso di realtà perché i grandi politici avevano soprattutto un senso della realtà continuo capite Churchill nel 1942 fece fare la prima relazione del welfare in piena guerra a Lord Beveridge e ne fece fare un'altra nel 44 prevedendo che andasse bene queste cose è possibile che qua non c'è nessuno che abbia una minima di visione che ci sia guardate io vorrei scrivere forse polemicamente a Beppe Grillo a Di Maio e a questi l'inizio del 37esimo capitolo di etica e politica scritto più di un secolo fa da Benedetto Croce lo leggo testualmente l'ho riportato tante volte un'altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che si fa della onestà nella politica l'onestà politica non è altro che la capacità politica come quella del chirurgo e del medico che non assassinano la gente magari con buoni i sentimenti e alcune cose poi Croce fa pure una provocazione cita un grande ministro inglese che diceva era dedito alla crapula praticamente cioè era un po' stravagante si chiamava James Charles Fox che fece un grande accordo con Tyrande nel 1801 ora questo qui a un certo punto viene richiamato e lui si mette tranquillo non va più nella crapula e diventa una specie di deficiente tanto è vero che gli inglesi lo pregarono di ritornare nei posti dove andava perché perlomeno riusciva a capire la politica allora o noi d'accordo nel fare tutto questo che vogliamo ci mettiamo in mente che dobbiamo avere degli indirizzi generali che corrispondano al bene comune accettabile delle persone o non andiamo più da nessuna parte e quello che ha detto la Anna Finocchiaro stamattina cioè il declino culturale di questo paese eppure il pessimismo che dicevi tu è una cosa portata di mano cioè scusatemi se scomodo l'ultimo esempio allora noi stiamo facendo sia queste scuole di politica meritevoli dove finalmente si ripara di politica una volta se ne parlava anche in piazza Duomo qua adesso non se ne parla più c'erano sezioni circoli case della cultura non se ne parla più di niente allora si parla di questo problema della sicurezza lo si è fatto diventare tragico addirittura quando nel 1990 dopo dieci anni tre vice segretari dell'internazionale socialista Willy Brand Olaf Parne e Bettino Craxi fecero un piano per azzerare il debito dei paesi terzi dei paesi del terzo mondo nell'ottobre del 1990 all'assemblea dell'ONU Bettino Craxi regge la relazione che viene approvata all'unanimità e subentra Butros Gagli a Perez de Quellar viene riconfermato Craxi a quel posto è la primavera del 92 quello che è successo dopo ve lo lascio a dire a voi e quindi vedete voi però voglio dire noi dobbiamo certamente informarci su dei grandi cose dobbiamo anche entrare nel merito delle vicende perché perché se no non riusciamo a combinare bene concretamente quello che è la politica dobbiamo dare pure dei giudizi storici anche perché in questo paese io leggo i libri dei miei figli vorrei sapere qui sui libri di liceo se arriva ancora fino alla prima guerra mondiale il libro di storia e se qualcuno ha letto il trattato di pace del 10 febbraio 1947 di Parigi dove l'Italia viene trattata a pedate praticamente e dove il povero De Gasperi un anno prima era entrato da una porticina per fare in un gelo enorme un discorso di collaborazione chiedendo scusa a lui che non aveva fatto nulla se non andare in galera per tutti gli italiani con quello che avevano fatto con il fascismo si alzò solamente il segretario di Stato americano gli strense la mano ecco queste cose bisognerebbe forse un po' ricordarle e sapere che questo paese che nel 1946 è concluso aveva ormai il PIL ridotto a quello del 1909 in 30 anni è diventata la quinta potenza industriale fra mille casini eccetera con un risparmio privato valutato oggi in 10.000 miliardi di euro sapete qui c'è sempre la solita storia siamo tutti ossessionati dal debito pubblico cioè guardate il paese che ha più grande debito pubblico è il Giappone al 200% il paese che ha minor debito pubblico è la Nigeria allora voi andate pure a vivere in Nigeria ma io vado a vivere in Giappone così ci mettiamo d'accordo probabilmente ci sono delle spese buone degli investimenti da fare probabilmente deve esistere un meccanismo di moltiplicatore come l'hanno scoperto Keynes altra gente che ha rilanciato l'economia se noi però al posto di dare il peso al valore diamo il peso al prezzo e alla finanza non ne usciamo più cioè guardate una frase molto bella e questa scusa mi occupo veramente che è di un matto di Oscar Wilde che dipinge l'uomo cinico dice chi è il cinico è quello che sa il prezzo di tutte le cose ma non ne conosce il valore e questo è la mia conclusione grazie grazie grazie